L'Umbria era un esperimento per noi, noi siamo ad uno dei risultati più bassi raggiunti, quindi per me non è più praticabile, questo esperimento non ha funzionato e lo stesso vale per il governo, il governo non c'entra con le elezioni regionali, però dobbiamo dirci che il movimento che stia al governo con la Lega o che stia al governo col PD comunque non ne trae un giovamento in termini di consenso, cioè il PD per quanto sia diverso dalla Lega ci lavoro meglio, ci fa male come la Lega nello stare al governo insieme. Buongiorno, ben ritrovati all'aria che tira, allora è ufficiale, l'amore appena nato tra i 5 Stelle e il PD è già finito. Per Di Maio non ci sono dubbi, d'ora in poi i 5 Stelle torneranno a ballare da soli, il capo politico ha le idee molto chiare, ma il capo del governo pure, il fatto è che sono idee opposte. Sentiamo un attimo Conte. Se un esperimento non è andato bene si può anche valutare come migliorarlo, ci si può ritornare a riflettere, ci sono varie competizioni regionali che ci aspetta, molti commentatori, molti analisti si soffermano sulla foto di Narni. Bene, ritornando indietro lo farei non una volta ma mille volte, perché ritengo che la politica sia questo, sia coraggio e determinazione e proseguire con visione strategica, senza fermarsi a valutare il punto, come dico sempre, ma alla linea. Allora, riascoltando insieme queste due dichiarazioni mi chiedo se anche tra Di Maio e Conte l'amore appena nato sia già finito, devo dire. Seguire la linea e non il punto, dice il Premier Conte, la linea è quella che porta dritta dritta l'alleanza strutturale con il PD e Conte ci spera ancora, invece Di Maio l'ha appena seppellita. E intanto cosa fa il PD? Anche da quelle parti i dubbi prevalgono sulle certezze. Per Andrea Orlando, vice di Zingaretti, potrebbe essere proprio il PD a staccare la spina. E lo stesso segretario Zingaretti lo dice molto chiaramente. non si può governare tra avversari e nemici, dice Zingaretti, o c'è un comune sentire delle forze politiche, altrimenti è inutile. A me pare che in realtà il comune sentire ci sia e 5 Stelle e PD non hanno nessuna voglia di andare avanti insieme, ma non hanno nessuna alternativa e dunque non sanno dirsi addio. Sigla! Ring the bell, ring the bell. Caro Mario, desidero dirti grazie. Il Presidente della Repubblica potrebbe tenere in considerazione il nuovo scenario. Via Conte 1, arriva Conte 2, Conte 3, Conte Dracola. Io non gioco a fantacalcio da anni. Noi siamo qui a governare. Sbagliare umano, perseverare, è diabolico. Non può essere un test regionale che può in qualche modo, come dire, incidere. O gli Umbri non hanno capito la genialità di questo governo oppure non ci sono dei geni al governo. Non ha funzionato questo esperimento. Se un esperimento non è andato bene si può anche valutare come migliorarlo. Il PD, per quanto sia diverso dalla Lega, ci lavoro meglio, ci fa male come la Lega. Con i 5 Stelle non la faccio più. Le dirò di più. L'ultima cosa a cui penso è Salvini. Lavoriamo insieme per il futuro delirio. Progettiamo il futuro delirio. Abbiamo bisogno, questo sì, di maggior sfidio di squadra? No! Abbiamo bisogno che il programma sia migliorato. No! Apriamolo questo tavolo permanente. Semina tradimento, raccoglie tradimento. Non credo che sia stato facile. Lasciamo a Di Maio, a Conte, a Renzi e a Zingaretti i loro dubbi. Noi siamo ad uno dei risultati più bassi. Non ho intenzione di fermarmi a breve. Il grande senso, è davanti. Stavigliati, burocratico, dopo il contratto, di evaluazioni, che avvotano al professor. E allora, è una mattinata molto tesa. In Parlamento si vota, il clima è molto complicato. Ci sono molte riunioni in giro per Roma. Ludovica Ciriello, come sempre, è per noi in giro, per i palazzi del potere, perché, insomma, diciamo che i postumi dell'Umbria si sentono tutti. Giusto, Ludovica? Sì, Mirta, c'è grandissimo movimento questa mattina. Alle mie spalle siamo ai gruppi. Qui c'è una riunione tra i capigruppo di maggioranza. Si parlerà di riforme costituzionali, ma la verità è che ogni incontro oggi sarà anche un test sulla tenuta della maggioranza, sulla buona salute della maggioranza. Abbiamo parlato con diversi esponenti del Movimento 5 Stelle e ci hanno segnalato che questa sera ci sarà anche una nuova assemblea, un'assemblea dei deputati 5 Stelle, in cui si spera, loro si augurano, che Luigi Di Maio partecipi, perché c'è l'esigenza di ricongiungersi con il capo politico della base parlamentare. E non finisce qui, però, perché dall'altro lato c'è anche la possibilità di un vertice di maggioranza a Chigi, a Palazzo Chigi, per parlare teoricamente della manovra, ma che sarebbe anche il primo incontro tra le forze di governo dopo il voto in Umbria. Quindi, come capisci, ci sono tantissimi appuntamenti anche dalla parte del Vicente. Diciamo che il racconto che ci fa Ludovica ci rende... Scusa un attimo, Ludo, ci rende plasticamente la situazione. Da un lato una resa dei conti all'interno dei 5 Stelle, che naturalmente sono in grande sofferenza, ma dall'altro anche un tema grande come una casa che riguarda la maggioranza che sostiene questo governo. Ne parliamo questa mattina con Maurizio Molinari, direttore della Stampa. Salve, Maurizio! Oggi tu titoli Conte e Di Maio e scontro sul PD. Lo dicevo in apertura, in realtà questo è uno dei grandi temi. Mi pare che sulla prosecuzione di un'alleanza strutturale col PD le opinioni di Conte e Di Maio siano praticamente opposte. Non è una roba da poco questa, no? Assolutamente sì ed è uno scontro identitario perché l'idea di una convergenza, se non addirittura una fusione tra i 5 Stelle e il PD è il momento in cui è nata l'attuale coalizione su intuizione, se non scelta politica, di Beppe Grillo. Oggi Di Maio dice che quella scelta è sbagliata e quindi va in un'altra direzione. C'è una spaccatura profonda dentro il Movimento 5 Stelle. Conte è sulle posizioni di Grillo, Di Maio no. Allora, voglio sentire il parere anche di Piero Sanzonetti perché oggi Piero Sanzonetti è qui per festeggiare una cosa importante perché stamattina, da stamattina in edicola questo giornale riformista è stata storica che però torna in edicola e vi dico una cosa perché è importante dirla tutte le volte che un giornale torna in edicola è una gran festa per tutti noi, tutti noi. La temigretta perché è così. Ciao Piero, benvenuto. È una gran festa soprattutto quando torna in edicola il riformista. Il riformista, esatto. È sempre una gran festa. In quel caso è una festa ancora maggiore. Pure Romagna ha il consenso. Perché senti il bisogno di parlare di riformismo in un momento in cui si parla solo di populismo, caro il mio Piero? E appunto, proprio per questa ragione diciamo, perché sembra scomparso. Una parola scomparsa, adesso è ricomparsa a me o nelle edicole speriamo che poi si allarghi, vada anche fuori delle edicole una parola scomparsa, è un'idea scomparsa e tutto sembra ormai ridotto al confronto fra estremismi che spesso poi sembrano in contrasto ma coincidono. Adesso, ora abbiamo il governo 5 Stelle PD che non si capisce come possa stare insieme. Prima abbiamo avuto il governo 5 Stelle Lega che sembravano lontanissimi, poi secondo me in realtà non erano tanto lontani perché si tratta sempre di... Cioè alla fine erano più coni loro. Io credo, Mirta, che esista un'alternativa in Italia e nel mondo moderno fra emergenzialismo e riformismo. Sono due cose incompatibili. Si può affrontare la politica ogni volta inventandosi un'emergenza, che può essere il fisco, le manette, i migranti, quello che vuole, un'emergenza e andando lì, oppure si può affrontare la politica facendo le riforme e quindi partendo molto da lontano. Purtroppo, diciamo, questa seconda visione politica temo che abbia una decina di adeggi. Quindi mi stai dicendo che il nostro amico Massimiliano Romeo, elegantissimo come sempre, stamattina che con un sorriso è un emergenzialista? Beh sicuramente, Romeo, è uno dei migliori emergenzialisti che io conosco. È uno che con l'emergenzialismo stravince le elezioni. Se lo porremmo stilizzato pancia. Lega è emergenzialista. È uno che con l'emergenzialismo stravince le elezioni, quindi poi non è che uno può dire chi se ne frega di Romeo. E no, è un problema vero, perché la Lega stravince le elezioni e oggi è di gran lunga il paese maggioritario nell'opinione pubblica italiana. Ed è un partito che come altri, come quasi tutti gli altri, peraltro, poi la Lega si sceglie le sue emergenze, il PD sceglie le sue, i Cinque Stelle le proprie, ma tutti sempre pensano solo all'emergenza. Possiamo però sostenere che le riforme nel nostro paese siano effettivamente un'emergenza. E quindi le due cose possono andare assolutamente... No, è un gioco di parole. Non vanno mai d'accordo. Riformismo emergenzialista. Adesso era una battuta. Io le faccio tanti auguri. Io sono sempre contento e felice, tra l'altro che ritorno in che ne dico. A me piace molto la vecchia idea del giornale. Il cartaceo, il profumo del giornale nuovo, da sfogliare. Sono molto più legato a questo tipo di tradizione piuttosto che le questioni un po' troppo internet, online e quant'altro. E quindi sono contento naturalmente che ci siano dei nuovi giornali. Senta Romeo, ieri ho avuto un collegamento il suo leader Salvini, che era felice come una Pasqua. Felice al punto che era anche molto moderato, parlava sempre di noi, continuava a dare meriti anche a Rameloni, a Berlusconi, cosa che non gli capita di frequente. Su Mattarella mi ha detto ma le pare che io chiedo a Mattarella, ma no, Mattarella sa cosa fare. Insomma, ho visto un Salvini che ha voglia di tornare a Palazzo Chigi e che quindi rassicura tutti. Che dice lei? Beh, indubbiamente nel processo di crescita un po' della Lega ci sono stati diversi cambiamenti e indubbiamente anche un profilo più istituzionale che riguarda anche tutti noi. Rispetto a... Se lei vedesse qualche trasmissione nelle tv locali che facevo qualche anno fa, non mi dico, non sarei riconoscibile. Mi sa anch'io il ruolo, il fatto che comunque siamo diventati anche un movimento insomma che ha delle percentuali notevoli che vuole comunque governare per tanto tempo e si lavora per poter tornare al governo. È naturale che i toni siano assolutamente toni... Come lo vede il governo? Lo fate cuocere a fuoco lento come ha detto Salvini? Io ieri ho fatto una battuta a proposito di battute su Facebook ho detto che con la vittoria in Umbra è iniziato il conte alla rovescia nel senso che pian pianino rosichiando e cercando di mettere un po' di difficoltà No, di un po' di difficoltà che possono nascere nel governo perché sicuramente ci sono... è un risultato che non fa certamente bene si vedono già i primi scontri all'interno è un'alleanza innaturale come l'avevamo detto da tantissimo... fin dall'inizio fin dal dibattito che c'è stato ad agosto e alla fine poi il loro destino se lo sono scelti loro e quindi alla fine facciano il mea culpa. Vedo che Ludovica sta camminando a passi lunghi per le strade di Roma è dietro Montecitorio dove stai andando? A Palazzo Chigi? Sì Mirta allora ci hanno detto che c'è Zingaretti in giro quindi sarebbe interessante incontrarlo perché quello che ti stavo accennando prima non solo dal lato del Movimento 5 Stelle c'è Fermento anche nel PD c'è chi chiede un nuovo congresso il più presto possibile e anche Matteo Salvini oggi dovrebbe essere qui nelle strade di Roma per incontrare deputati e senatori quindi noi stiamo andando alla ricerca di ulteriori persone con cui farti parlare Vabbè hai parlato con i 5 Stelle hai incontrato qualche 5 Stelle stamattina così mi dici un po' quali sono gli umori? Ho parlato sì ho parlato tutti entravano in fretta e furia in questo incontro dal Palazzo di Gruppi ho parlato con Luca Carabetta con Dino Giarrusso entrambi cercano di abbassare i toni intorno a Di Maio perché chiaramente in questo momento potrebbe essere proprio il capo politico del Movimento 5 Stelle a risentire di più della sconfitta in Umbria e loro cercano di fare quadrato un po' intorno al leader ammettendo però che comunque la sconfitta è stata dura e ognuno dovrà prendersi le proprie responsabilità allora rimani rimani vicino a me non ti preoccupare volevo sentire un momento Di Maio io sentiamo Di Maio e poi ne parliamo questo governo è nato quest'estate è partito ha mantenuto la promessa il taglio parlamentare ha mantenuto la promessa di non alzare l'iva adesso per dargli più visione abbiamo bisogno che il programma sia migliorato e innovato perché anche quello può avere delle migliorie allora cosa vuol dire questa dichiarazione Maurizio Molinari cioè al di là dell'alleanza colpidine delle regioni che mi pare che lui abbia archiviato certo l'ha archiviata lui poi conta un'altra opinione ma c'è anche un tema governo cioè mi pare che stare al governo così come ci sono stati finora Di Maio lo considera sostanzialmente un modo per continuare a dissanguarsi la realtà vera è che la leadership di Di Maio è in gioco lui è stato prima l'artefice dell'accordo con Salvini che ha indebolito i 5 Stelle poi ha accettato contro voglia l'accordo con Zingaretti che ha ulteriormente indebolito i 5 Stelle sono due scelte politiche di cui lui porta la responsabilità e entrambe non hanno giovato al movimento che ha incassato in Umbria un risultato negativo quasi senza precedenti e adesso vede lui Luigi Di Maio indebolito all'interno del suo movimento con l'ulteriore complicazione per il suddetto Di Maio che il rivale più formidabile rischia di essere all'interno di 5 Stelle proprio Conte esatto questo è un gran problema per Di Maio nel frattempo Zingaretti facendo alcune dichiarazioni senza patto PD Movimento 5 Stelle la situazione sarebbe stata peggiore ogni picconata al partito intende il PD naturalmente credo che si rivolga a Renzi è un favore a Salvini e poi non voglio il voto ma bisogna cambiare passo quindi anche Zingaretti comincia a sentirsi a disagio ah tra l'altro vedo Ludovica ha collegato con noi Andrea Romano esponente di spicco del PD buongiorno ben trovato Romano buongiorno buongiorno di spicco non esageriamo insomma deputato del PD vabbè quella però è una mia valutazione personale io la considero di spicco mi dica una cosa Romano ma è finita con i 5 stelle grazie mi dica cose chiare è finita con i 5 stelle secondo lei poi lasci perdere quanto tempo ci vuole ma insomma arriviamo lì? no ma io credo che il governo io credo che il governo debba fare le cose per cui è nato non è che dobbiamo stare al governo per forza ma per forza dobbiamo provare a rimediare alle catastrofi che ci hanno lasciato i leghisti soprattutto il governo precedente ricordiamo le ragioni per cui è nato questo governo un'Italia che perdeva colpi l'economia era ferma rischiavamo di andarci a schiantare contro il muro europeo l'IVA di 23 miliardi e tante altre cose una barca rovesciata questa barca la stiamo rimettendo dritta diciamo per questo siamo nati per questo è nato questo governo e per questo questo governo deve andare avanti io sono preoccupato le confesso da quello che sento dire da Di Maio Di Maio dice adesso dobbiamo rimettere mano alla legge di bilancio quella legge di bilancio ricordiamo non l'abbiamo decisa tutti insieme prevede misure fondamentali asilinido gratis un miliardo per il piano casa la riduzione delle tasse per chi ne ha più bisogno gli italiani che guadagnano meno di 24 mila euro l'or di sottolineo cosa dobbiamo fare chiedo a Di Maio rimettere in discussione quelle misure perché i 5 Stelle hanno preso una botta molto seria io ho grande rispetto per i 5 Stelle in Umbria non drammatizziamo il voto in Umbria il voto in Umbria è un voto no no sì l'abbiamo preso insieme ci mancherebbe altro non nascondo mai le sconfitte le sconfitte sono sempre di tutti però non drammatizziamo il voto regionale in Umbria che è appunto un voto regionale molto severo molto duro atteso era difficile ribaltare quel pronostico però dopo il voto in Umbria ci sarà il voto in Calabria in Emilia Romagna in Toscana appuntamenti regionali uno diverso dall'altro dove aggiungo di volta in volta dovremmo decidere legittimamente se stare insieme ai 5 Stelle o no per esempio in Toscana la mia terra io ho più di un dubbio l'ho detto e lo dirò con tanti altri colleghi del PD ho più di un dubbio se sia opportuna l'alleanza con i 5 Stelle ma ogni regione valuterà a suo modo un conto sono le discussioni nelle regioni un conto è la discussione a livello nazionale questo governo deve andare avanti facendo le cose per cui è nato non diamo agli italiani lo spettacolo di un litigio continuo era uno spettacolo a cui hanno assistito fino all'agosto scorso so che in studio da voi c'è il collega della Lega Molinari no che saluto è Romeo che perdono Molinari è il direttore della stampa in questo caso si chiama Maurizio e invece c'è Massimiliano Romeo che è il collega della Lega se posso così saluto nel senso ti saluto visto che sei lì faccio i complimenti per il lavoro tutto quanto quindi si deve sempre essere rispetto tra i colleghi però secondo me questo giochino di dire che avete fatto il governo per mettere a posto i disastri di quello passato ti ricordo che per metà è lo stesso governo di quello passato compreso Conte quindi è un giochino che riesce un po' poco sarebbe più opportuno dire la verità nel senso che avete fatto il governo perché non volevate consegnare il paese nelle mari di Salvini secondo me è più anche onesto dire le cose come stanno e perché non c'era nessuna volontà di andare a casa perché i 5 Stelle temevano ovviamente che la maggior parte non sarebbero stati rieletti e dall'altra parte anche il PD era in una situazione particolare perché se vogliamo guardare le scelte politiche noi facciamo delle scelte voi delle altre e ci si può confrontare ma i disastri noi abbiamo consegnato comunque un paese da un punto di vista economico che era posto perché la Commissione Europea ha certificato nessuna infrazione un momento nessuna infrazione nessuna infrazione quindi i conti a posto c'erano stati addirittura dei risparmi sia da 400 che dal reddito di cittadinanza e dall'altra parte abbiamo avuto l'avete certificato voi con la nota d'aggiornamento del documento di economia e finanza 3 miliardi di interessi sul debito risparmiati rispetto all'anno precedente quindi anche la storia dello spread degli interessi dei miliardi è una grandissima bufala dite la verità poi capisco che 23 miliardi di clause di salvaguardia non siano facili da scongiurare lo ammetto e lo riconosco però non vi ha neanche ordinato il dottore di fare voi il governo se andava a voto e lasciavate qualcun altro probabilmente il compito di svolgere questa funzione tutto qua su e poi devo arrivare a salutare anche Borgono Romano Romano risponde con i dati che non sono di Romano ma sono dell'ufficio parlamentare di bilancio dell'istat col governo guidato di fatto dalla Lega la pressione fiscale in questo paese è aumentata per la prima volta dopo 5 anni che si era ridotta vogliamo parlare del costo che quel governo ha imposto ai risparmiatori italiani con l'aumento dello spread quando questo governo è finito quando il vostro governo è finito rapidamente gli italiani hanno risparmiato 6 miliardi di costi aggiuntivi che c'erano stati sul bilancio dello Stato e tante altre cose negare l'evidenza Romeo e fare un conto agli italiani se ne erano come l'economia andava malissimo parliamo di futuro per me è molto semplice questo governo va avanti se fa le cose per cui è nato non offriamo agli italiani lo spottacolo di un altro governo litigioso ma io sono fiducioso che questo governo vada avanti perché la manovra di bilancio che abbiamo partorito è una manovra di bilancio importante che va a sostenere gli italiani che ne hanno più bisogno non vorrei che si riaprisse ora una discussione tra alleati su una legge di bilancio che va portata a casa rapidamente grazie Andrea Romano buon lavoro vi faccio vedere ieri cosa succedeva a Roma dopo la rivoluzione umbra del voto guardate prova a scherzarci su il premier Giuseppe Conte ma è il primo a sapere che il risultato delle elezioni umbra è tutt'altro che meraviglioso vediamo anche le riflessioni che innanzitutto ovviamente dovranno fare anche leader delle forze di maggioranza io direi però che non dobbiamo avere consapevolezza che sono piani diversi il giorno dopo la disfatta umbra la tensione si fa altissima dentro la maggioranza e a scatenarla sono soprattutto i 5 stelle ormai con il PD in Emilia Romagna io lo dicevo anche prima nel governo però un conto è una repubblica parlamentare un conto sono i territori ripeto io devo andare col PD per far cosa ed è lo stesso capo politico Luigi Di Maio a mettere la pietra sull'alleanza con il PD alle prossime regionali mi sembra un po' stravagante pensare che siccome non ce l'abbiamo fatta vincere insieme in Umbria andare a divisi nelle altre regioni è una regione in più per andare avanti è la linea di Zingaretti che chiede però maggiore unità nella coalizione e Conte sembra più sulla sua lunghezza d'onda che no su quella di Di Maio abbiamo bisogno questo sì di maggior spirito di squadra dobbiamo rafforzare la coesione e quando nel 2023 ci confronteremo nella competizione nazionale in quel momento noi saremo giudicati per quello che abbiamo fatto un conto sono i patti locali un conto è invece il governo a cui tutti chiedono di fare uno scatto di più ma a cui nessuno per il momento si azzarda a staccare la spina io suggerisco un po' di calma per valutare le questioni penso che debba andare avanti l'attività di governo bisogna portare gli italiani i risultati cambiamento progresso migliorare le loro condizioni di vita non c'entra niente questo governo dobbiamo solo lavorare e continuare a ottenere i risultati e dimostrare alla popolazione che il movimento è nato per perseguire e realizzare il programma digerita digerita fatica la sconfitta in Umbria oggi ricomincia il balzer dei vertici dentro i 5 stelle ma anche dentro la maggioranza insomma la strada per approvare la manovra parte in salita Allora questo è il clima di ieri voglio salutare Francesco Borgonovo firma della verità a proposito della bellezza dei giornali oggi fate lo stesso identico titolo il giornale la verità bye bye Giuseppi avete avuto lo stesso feeling diciamo noi chiudiamo prima che dici? può succedere noi chiudiamo prima il giornale rispetto a loro siamo arrivati prima noi prima voi siete usciti? no sto scherzando sto scherzando perché bye bye Giuseppi però spiegaci il titolo beh come dire il nome Giuseppi gliel'ha attribuito Trump sembrava a un certo punto che fosse Conte il più amato dagli americani e non solo dagli italiani ha avuto goduto di ottima stampa per settimane da burattino come era ai tempi dell'alleanza con la Lega è diventato uno statista di enorme rilievo amicissimo di Trump che lo ha appunto si è reso conto che erano due infatti l'ha chiamato Giuseppi e adesso Giuseppi è un po' in difficoltà perché va bene che abbiamo parlato di Di Maio prima però in Umbria ci è andato anche lui ci ha messo la faccia pure lui ci ha messo la faccia tutto il suo governo e quindi la batosta se l'è presa come il governo se l'è presa l'alleanza di governo non solo quella locale in Umbria tra l'altro Conte ha avuto un pochino di uscita infelici sull'Umbria il paragone per esempio con Lecce però direbbe Vittorio Felte era fattuale diceva che in effetti gli abitanti dell'Umbria non sono tanti sono gli stessi abitanti della provincia di Lecce non c'era un intento migratorio sì va bene però sarà anche fattuale ma il tono con cui l'ha detto è quello che voleva dire cioè alla fine è poca gente conta poco in realtà non è così perché era un test importante e hanno misurato un'alleanza su delle cose che contano perché adesso possono pure dire ridiscutiamo in Emilia Romagna a posto che in Emilia Romagna Bonaccini vuole rimanere a suo posto e sta trattando con Renzi quindi i 5 Stelle li vedo male beh non lo dico io insomma sono un po' di retroscena oggi io avevo capito che Bonaccini voleva candidarsi col PD con l'appoggio di Renzi invece con quello dei 5 Stelle non cambiare partito sì esatto quello che ho detto no quello che ho detto è quello che ho detto di cui i 5 Stelle li vedo male in Emilia Romagna cioè il problema non è solo l'Umbria il caso dell'Umbria che l'hanno gestita male perché lì c'era un problema di giustizia grande come una casa e 5 Stelle la cui ragione di essere è sempre stata onestà onestà candidarsi come partito che ha fatto quel disastro se vai in Emilia Romagna dove ci sono altri disastri ad esempio il caso di Bibiano ad esempio ecco fermiamoci un istante scusa Francesco perché appunto hai posto il tema ma io voglio tornare un momento a Giuseppe Conte che non si chiama Giuseppi vero Maurizio Molinari perché invece però il tema anche di questo questo cerchiamento un po' dall'estero ci siamo occupati la settimana scorsa del tema incontri con gli americani bar adesso ci occupiamo di questo presunto conflitto di interessi insomma sembra che arriva dal Financial Times che è una cosa che non va sottovalutata insomma ci sono un po' di cose che sembrano arrivare con una nuvola nera sulla testa di Conte ma sì diciamo sul fronte politico diplomatico non c'è dubbio che Conte con il nuovo governo ha rasserenato i rapporti non solamente con l'Unione Europea ma anche con gli Stati Uniti su tutta una serie di temi i rapporti con la Russia il 5G cinese gli F-35 la missione in Afghanistan il problema è che l'inchiesta di Barra ovvero la volontà del procuratore generale Duram di appurare se vi fu un contributo italiano alla genesi di Russiagate contro Trump nel 2016 è un'inchiesta che lo investe in quanto lui oggi è il capo dei servizi segreti italiani questo è il punto e la volontà da parte dell'amministrazione Trump e del ministro della giustizia Barra di appurare questo sospetto passa attraverso la ricerca del professor Mifsud che è considerato un test cruciale dagli investigatori americani dal procuratore Duram che non si trova e che secondo le indicazioni degli americani dovrebbero essere gli italiani e fargli sapere dove sta quindi la realtà vera è che Conte in qualche maniera è accerchiato da due Trump c'è un Trump politico diplomatico che gli tende la mano lo riconosce come partner e lo rafforza e c'è un Trump invece candidato alla rielezione alla Casa Bianca nel 2020 che vuole trovare Mifsud e chiede a lui di dargli una mano Allora questa è una spy story pazzesca ne parlammo la settimana scorsa ci aiutò Francesco Magnani che fu da allora ribattezzato 00 Magnani ma anche oggi c'è una missione speciale per 00 Magnani perché Allora grazie Miltro non ho mai carato nel ruolo perché anche la storia del Financial Times io ho sempre la sensazione che poi a casa un po' si perdono perché sono talmente complicate queste storie per cui Magnani studia tutta la notte però poi è sempre perfetto al mattino si pettina non come carogati e sentiamo Tutto nasce da questa notizia che pubblica il Financial Times domenica che richiama una vicenda antica che la stampa italiana in parte conosceva ma alla quale il Financial Times aggiunge un elemento una vicenda che richiama il ruolo di Conte un presunto suo conflitto di interesse rispetto alla sua professione in passato quando era avvocato riguardo un'operazione di affari e la novità che ci mette dentro il Financial Times è che questi affari questa scalata potrebbe essere stata condotta con i fondi su cui sta indagando la magistratura vaticana rispetto all'uso forse un po' pergiudicato dell'obolo di San Pietro facciamo un passo indietro andiamo intanto andiamo avanti col cartello ma andiamo alla primavera dell'anno passato la vicenda riguarda Retelit una società quotata in Italia che gestisce 12.000 km di fibra ottica stiamo parlando delle infrastrutture del futuro ebbene che succede avanti con il cartello un consorzio di azionisti di Retelit raggruppati in Fiber 4.0 cerca una scalata chi c'è dietro Fiber.0 c'è un fondo Atina che è gestito che ha controllato dal finanziere Raffaele Mincione che cosa succede? loro vogliono diventare accenisti di maggioranza di Retelit vogliono sostanzialmente scalare Retelit l'operazione non funziona perché in seno all'assemblea dei soci cartello successivo vengono bloccati dagli altri azionisti in particolare un fondo tedesco Shareholder Value e la società nazionale di telecomunicazione libica e allora che succede? avanti Fiber 4.0 si rivolge a un avvocato poco noto dice il Financial Times siamo a 14 di maggio al quale viene chiesto di produrre un parere legale questo avvocato risponde al nome e Conte sbarca a Palazzo Chigi il 2 di giugno ci arriviamo tra un momento siamo ancora al 14 di maggio viene chiesto all'avvocato Giuseppe Conte un parere proveritate andiamo avanti con il cartello e in questo parere proveritate Conte dice l'unica strada che avete per provare a fare questa scalata è chiedere al governo di azionare il golden power vale a dire riconoscere la strategicità di quella società e impedire che siano fondi come vedevamo stranieri che se ne prendano il controllo e appunto Mirta arriviamo a porre gli occhi sul 14 di maggio 2018 siamo nella fase della costituzione del governo giallo verde vediamo il titolo del corriere della sera c'è Romeo studia giorno e noto il contratto in quei giorni Romeo e tanti altri studiano il contratto lega e 5 stelle siamo pronti ai tempi ci ricordiamo Conte era ministro in pectore nominato dal movimento 5 stelle per la funzione pubblica si tratta ancora sul premier ancora non si sapeva che premier sarebbe diventato due settimane dopo cartello successivo il presidente del consiglio questa è la foto del giuramento davanti al capo dello stato una settimana dopo andiamo avanti si riunisce il consiglio dei ministri questo è il comunicato ufficiale il consiglio dei ministri ha deliberato di esercitare i poteri speciali con riferimento alla modifica della gomma però Conte ci fa sapere che lui non c'è quel consiglio non c'è perché è in Canada per presiedere il suo primo G7 e già allora aveva chiarito che non si poteva parlare di conflitto di interesse ancorché il consiglio dei ministri da lui presieduto applica quello che da avvocato consulente aveva suggerito passiamo al cartello successivo che ci riporta alla novità dello scoop del Financial Times perché il Financial Times rivela che dietro all'operazione di Mincione ci sono i soldi dell'obolo di San Pietro non solo per acquistare dei palazzi di lusso a Londra ma anche per fare una scalata in una rete strategica senza volermi impicciare gli affari vaticani Dio mi guardi ma l'obolo di San Pietro sostanzialmente è la carità che i fedeli fanno e che dovrebbe servire ad opere di bene quindi anche questa storia che mi resti occupi di scalate piuttosto che di comprare case nel cuore di Londra è una roba che un po' ci rende perplessi arriviamo alla nottata di domenica sera Palazzo Chigi dirama una nota di spiegazione non c'era conflitto di interesse per le ragioni che avevamo già detto ma soprattutto Conte ha reso soltanto un parere legale e non era tenuto a conoscere che alcuni investitori facessero riferimento a un fondo di investimento in il Vaticano su cui oggi indaga l'autorità giudiziaria il vero mistero che resta è perché il Financial Times si occupa di conti in un momento così delicato Piero Sanzonetti hai un'idea? Ludovica un attimo aspetta un secondo rifletti un attimo perché vedo che Ludovica mi chiede la linea Ludovica che succede? è uscito è andato via Mirta ti chiedevo la linea perché Zingaretti ci ha seminato è uscito dietro mentre noi lo aspettavamo da un'altra parte però ora era uscito il suo staff quindi stavo cercando di capire come riagganciarlo va bene prova a riagganciare Zingaretti mattinata complicata c'è molto silenzio in giro perché i leader della maggioranza sono in una fase in cui ancora devono prendere decisioni comunque adesso vediamo cosa succede Sanzonetti prego Pagino gli stranieri spesso si occupano delle questioni italiane picchiano sui nostri premier non c'è nulla di strano sulla vicenda è una vicenda complicatissima io non è che ho capito proprio tutto quello che è chiaro Magnani non ha spiegato bene no no Magnani ha spiegato benissimo ma non è colpa di Magnani è colpa della vicenda però mi pare di capire due cose uno che probabilmente è un certo conflitto di interesse fra il parere espresso da Conte e la decisione propresa dal Consiglio dei Ministri c'è perché in ogni caso Conte aveva chiesto di fare quella cosa lì e quindi insomma e d'altra parte non mi pare che ci sia un reato e d'altra parte ancora io francamente se deve cadere questo Conte e cada questo Conte e cada perché lo butta giù Romeo cada perché lo buttano giù i 5 Stelle che rompono col PD o che si sfarciano ma che un'altra volta debba cadere un governo perché c'è o un'inchiesta giudiziaria uno zantino esterno non è possibile non mi sembra che sia una cosa gravissima del resto questo fatto del conflitto di interesse è esploso con la vicenda da quando Berlusconi è entrato nella politica italiana perché prima neanche se ne parlava c'erano conflitti di interesse ovunque nessuno se ne interessava da allora è diventata una bandiera della sinistra anti-berlusconiana quella che il conflitto di interesse è un conflitto di interesse e poi dopo si è pensato dove sta mi pare che è sostanzialista se il governo non fa le cose cade volevo solamente però precisare che i 5 Stelle la bandiera del conflitto di interesse la mettono come uno dei punti prioritario e allora non è che può valere solo per gli altri io posso anche essere d'accordo se io l'ho mai messa e continuo a non metterla non è la vostra bandiera lo dicevo solo perché per una questione giusto di coerenza non è che si può mettere solo se riguarda gli altri quando riguarda il proprio presidente del consiglio allora si va a sorvolare non è una questione così secondaria di politica interna italiana per cui le polemiche sul conflitto di interessi cioè qui non è casuale se il Financial Times esce adesso visto che questa notizia in Italia era uscita l'abbiamo scritta anche noi diverso tempo fa era passata così un po' in sordina adesso arriva uno dei principali quotidiani del mondo e tira una mazzata che insomma Conte la sente tanto più che pure il Copacir vuole vederci chiaro su questa storia in più c'è un'altra partita ancora perché sulla questione Mifsud e come dire tutte le l'altra parte della spy story Conte non è che abbia proprio spiegato tutto perché in quello che ha detto è andato a dire qualche giorno fa tra l'altro uscendosene poi con una strana conferenza stampa in cui ha detto quello che voleva lui manca c'è un buco di due mesi non si capisce perché essendo lui a capo dei servizi segreti non sia andato agli incontri di persona non abbia monitorato come doveva gli incontri con gli 007 americani cioè significa che forse anche l'amico Giuseppi che è stato come dire magnificato in Italia l'indomani di un tweet di Trump che è facile scrive un po' al grilletto facile anche con i tweet ecco il giorno dopo sembrava che l'avesse incoronato mi tocca ricordarvi che l'amico Giuseppi dopo la sua audizione al Copasir ha ricordato che lui si è ha chiarito e ha fatto insomma ha raccontato come stanno le cose che ha chiamato in causa l'altro amico invece è Matteo dicendo che Salvini deve fare lo stesso sulla vicenda che riguarda Savoini e Fondilussi ha scaricato Barile però però il Copasir va avanti a sentire delle persone su questa storia quindi non è che sia proprio finita lì poi c'è un versante americano che a Trump gliene frega poco forse di sentire cosa da dire Salvini sul Metropol ma gli interessa di più questa storia che diceva prima Molinari e su questo lui si è infilato in una vicenda molto grande l'elezione di Trump e questo può essere un problema però Maurizio volevo chiederti una cosa perché vorrei mettere un altro tassello perché in questo momento in cui sembra traballare Conte succede una cosa molto importante finisce il mandato di Mario Draghi alla BCE è la fine di un'era tutti oggi Mattarella insomma dice grazie Mario fa un discorso inquidato a Draghi deve sostanzialmente salvato l'Euro e l'Europa e in Italia ricomincia a circolare questa voce che Draghi potrebbe sbarcare a Palazzo Chigi ne ha parlato ieri sera Salvini da Bruno Vespa sentiamolo un secondo e poi commentiamo con Molinari L'obiettivo dichiarato di Renzi il suo obiettivo di far cadere non il governo ma Conte e di sostituirlo se mai accettasse con Draghi lei Draghi non l'ha mai amato va bene ma non è che stiamo parlando però della panchina del Milan cioè esce Giampaolo entra Pioli perdevi prima perdi adesso stiamo parlando dell'Italia adesso qua non abbiamo le figurine via Conte 1 arriva Conte 2 Conte 3 Conte Dracola il 4 il 5 il 6 le elezioni fanno così paura? allora Salvini è molto bravo come dire della sua risposta sulla panchina del Milan però in effetti l'idea che il salvatore della patria possa essere Mario Draghi è un'idea che circola molto Maurizio sì dunque ci sono tre aspetti il primo sicuramente è il prestigio personale e politico di Mario Draghi in dubbio per aver salvato l'euro rafforzato l'eurozona attraverso una fase di grande turbolenza monetaria e questo prestigio è un prestigio che di riflesso investe e premia il nostro paese di questo tutti noi dobbiamo essere consapevoli è uno straordinario asset della Repubblica Italiana Mario Draghi questo è il primo dato il secondo dato è che trasferendo tutto ciò sul piano della politica interna italiana sempre ammesso che questo sia un interesse del suddetto Mario Draghi andrebbe a rafforzare la zona del centro un centro che per effetto proprio del voto umbro sembra in qualche maniera riemergere e quanto si diceva prima di Zingaretti al bivio fra la scelta di sinistra perdente con i 5 Stelle e la possibilità di allearsi con Renzi in Emilia lascia intendere che il partito più importante della sinistra possa avere la tentazione se non l'interesse di tornare al centro il punto è questo ritorno al centro può premiare coincidere con il nome di Draghi e qui però c'è il terzo elemento che bisogna fare molta attenzione perché ogni volta che si vota nell'ultimo anno e mezzo gli italiani hanno votato a favore del centro-destra mentre invece a governare sono state combinazioni di centro-sinistra e questo è qualcosa che deve far riflettere tutti a cominciare da Mario Draghi allora è molto interessante questa riflessione devo andare in pubblicità tra l'altro vedo che è arrivata a Roma Donatella Tesei neogovernatrice dell'Umbra ora capiremo perché pubblicità e torniamo subito con voi l'Umbra dopo un buco di tempo si è liberata della sinistra io e mia compagna andremo a pranzo facciamo una bottiglia sfumante festeggiamo a Perugia è l'alba di un nuovo giorno gli Umbri si sono riscoperti leghisti dopo questo voto da domani che cosa succederà a Roma? ah sì lì sarà da ride probabilmente faranno neanche una crisi del governo e si andrà a votare abbastanza presto sarà una rivoluzione e Dio gliela mandi buona e ora le regionali straminte dal centro-destra sembrano puntare dritta al governo giallorosso l'unione forzata che hanno voluto riproporre al popolo Umbro non è non è stata condivisa non è stata accettata e cominciamo dall'Umbria per dire quello che vogliono gli italiani eccola la nuova governatrice leghista dell'Umbria fresca di elezioni poco dopo arriva anche il suo sponsor numero uno Matteo Salvini il tempo di aggiustarsi la cravatta e la conferenza stampa di Vittoria inizia splendida giornata saccheggiamo masco rossi è un voto degli Umbri per gli Umbri ma sicuramente è un preavviso di sfratto a chi è minoranza del paese e occupa i ministeri e i palazzi del potere in Umbria il centro-destra ha vinto ovunque dai centri più grandi come Perugia a quelli più piccoli come il borgo di Solomeo patria del re del Kashmir Cucinelli uno dei pochi luoghi toccati anche dal presidente del consiglio Giuseppe Conte ma le doti da calciatore di Conte non mi hanno convinte alla fine essendo un calciatore anche io non è che mi ha impressionato più di tanto in Umbria non ha funzionato questo è certo gli Umbri sicuramente hanno fatto un voto di protesta un'ondata che non ha risparmiato neppure Narni ancora governata dal centro-sinistra e diventata famosa grazie alla foto dell'asse di governo PD 5 Stelle per me ne poterò far meno di venire se vuole mettere insieme il diavolo e l'acqua santa l'Umbria ormai è diventata verde non è il verde che mi aspettavo io ho i miei dubbi che diventi migliore ma il malumore più grande si registra in casa 5 Stelle dove in pochi mesi i voti si sono dimezzati ho votato 5 Stelle però il movimento dovrebbe fare una topritica parecchi del movimento 5 Stelle o non sono andato a votare o hanno votato Lega allora Ludovica Ciriello che succede? perché c'era la Tesea a Roma? qui si è appena conclusa la riunione quindi ci siamo c'era la Tesea a Roma perché lei come sai è senatrice è una senatrice della Lega e quindi è venuta a chiudere il suo percorso parlamentare per poi rimettersi al lavoro sulla regione anche se come ti dicevo oggi sono previsti gli incontri con Matteo Salvini di alcuni senatori e deputati quindi è possibile che si incontri anche con lei va bene grazie allora che diceva che diceva Romeo dicevo che oggi sicuramente tutto il gruppo del Senato avrà piacere di salutarla di festeggiare con lei questo grandissimo risultato è una sua senatrice ed è una leghista tutto tondo Presidente è stata Presidente cioè nel senso è Presidente della Commissione Difesa devo dire che come avvocato avete una vostra donna sempre senatrice Lucia Borgonzoni e in Toscana la Meloni dice a sto giro tocca a noi avrebbe ragione adesso quello poi si vedrà si valuterà sono scelte che poi farà Matteo Salvini in accordo con gli altri con gli altri leader della coalizione degli italiani perché questa poi è la parola che a noi piace molto centrodestra non c'è più ma no è qualcosa che va oltre centrodestra perché i dati hanno evidenziato per esempio che ci sono stati comunque una percentuale di elettori dei 5 Stelle e una percentuale di elettori del PD che hanno votato a questo giro la Lega hanno votato la Presidente la candidata la Presidenza Donatella Tesei quindi vuol dire che ci sono anche dei movimenti civici dei sindaci di liste civiche che vengono verso di noi perché io voglio essere chiaro perché poi alla fine gli italiani non sono stupidi come qualcuno può pensare perché saranno anche bravi a fare le manovre di palazzo via Conte mettiamo Draghi come diceva prima Salvini come se fosse un cambio d'allenatore ci mettiamo insieme anche se ci siamo fatti la guerra fino a ieri diciamo che quelli di prima avevano aumentato le tasse però scriviamo nella letterina Bruxelles che in realtà mettiamo 5 miliardi di tasse in più poi gli italiani a confronto con la realtà sanno benissimo chi premiare e chi li sta ingannando quindi fin quando vanno avanti su questa strada attenti a destra vorrei sentire Sanzonetti perché Malissimo Molinari ha detto una cosa importante prima ha detto in effetti è un anno e mezzo in cui tutte le tornate elettorali finiscono a favore del centro-destra e invece in questo momento governa il centro-sinistra c'è qualcosa che non quadra questo 10 a 1 delle regioni rispetto a una coalizione che esprime il governo del paese? beh sì ma ragione Molinari anche se il governo precedente non era di centro-sinistra era un governo non so come definirlo ma era un guida di destra diciamo perché era fondamentalmente Salvini ministro all'interno comunque beh sì insomma regolano i Salvini adesso nessuno ha mai pensato una cosa diversa neanche Romeo ora si chiama la coalizione degli italiani noi non siamo di destra noi siamo i moderati italiani siamo noi il tessuto produttivo italiano vota per noi quindi i moderati sono per noi però il problema che pone Molinari è vero nel senso che esiste un governo e che ragionevolmente in questo momento non ha più la maggioranza nell'opinione pubblica ora però una cosa di cui bisogna parlare perché se no è una situazione anche normale è successa in molti altri paesi europei succede ripetutamente o si stabilisce che i governi e le maggioranze si fanno con i tweet o con i sondaggi o con le elezioni comunali però allora si perde completamente la possibilità di avere un governo che decide un programma e lo attua oppure come Macron è stato per molto tempo senza forza il 15% però il problema si pone e si pone per una ragione molto semplice perché un governo che sta governando sapendo che la grande maggioranza del paese è su posizioni molto diverse in questo caso è un governo europeista che sa che c'è una maggioranza populista sovranista anche anti-europeista naturalmente starà molto attento a quello che fa avrà difficoltà a seguire la sua linea sarà condizionato da Romeo anche su quello che ha detto prima Romeo i moderati siamo noi ma sì io credo che l'interrogativo che pone Sanzonetti è pertinente cioè come questa situazione sul terreno cioè il fatto che l'Italia sia un paese moderato e che vota centro-destra possa o debba influenzare il governo che in questo momento è di centro-sinistra ma partiamo dalla finanziaria che cosa vuole il popolo moderato che diminuiscono le tasse questa è una finanziaria che le tasse non le riduce abbastanza prima questione seconda questione per andare incontro alle istanze della Commissione Europea si poteva intervenire su quota 100 o sul reddito di cittadinanza noi sappiamo che i tecnici del ministro del tesoro potevano intervenire sul reddito di cittadinanza semplicemente scusa Maurizio devo andare in pubblicità che è un tassativo ti posso chiedere di restare ancora un minuto ti faccio finire dopo la pubblicità torniamo subito con voi allora eccoci qua sono le 12 in punto mi collego subito col telegiornale c'è Luca speciale per gli aggiornamenti e le news del giorno ciao Luca ben trovato buongiorno Mirta buongiorno a voi allora dunque in corso da più di un'ora da qualcosa più di un'ora un nuovo vertice di maggioranza per affrontare il tema delle riforme costituzionali in un momento di grande gelo chiaramente dopo il voto in Umbria la grande sconfitta con le parole di Di Maio che ha detto mai più ad alleanze sui territori chiaramente c'è Conte che chiama il governo a fare squadra Zingaretti che ribadisce di non volere il voto di voler far di tutto perché questo governo sopravviva dice anche però basta slogan servono però risposte concrete da parte dell'esecutivo e poi andremo a vedere come è difficile trovare anche in Gran Bretagna una data per il voto per quelle elezioni anticipate ormai inevitabili dopo che i 27 hanno concesso questa proroga flessibile per la Brexit al 31 gennaio 2020 ma anche prima se venisse trovato un accordo la difficoltà adesso di Johnson è quella che si è visto respingere dalla Camera dei Comuni la sua mozione per il voto anticipato al 12 di dicembre parleremo ancora del califo al-Baghdadi della sua uccisione con il blitz delle forze statunitensi perché emergono nuovi dettagli soprattutto si è saputo che è stato un informatore dell'Isis a fornire il DNA di al-Baghdadi consegnando un suo capo di biancheria intima che le ceneri sono state disperse in mare il Pentagono dice che nei prossimi giorni vedremo anche qualche immagine di questo blitz ma ci sono anche polemiche forti su Trump per quella che è stata la sua ricostruzione tutto alle 13.30 grazie Mirta allora grazie Luca vedo Ludovica non ha beccato Zingaretti però ha beccato il mitico Diego Bianchi in arte gioro con cappellino allora prima cosa auguri Diego mi facciamo anche gli auguri che è stato il suo compleanno grazie grazie non potete sapere che Diego è diventato uno splendido cinquantenne come diceva Moretti sì sì eccomi ecco ti è tutto vero ma niente ma io giravo chiedevo cose a Ludovica e lei mi ha messo l'auricolare ma non so nulla vuole informazioni invece che ho incontrato Rocco Casalino Mirta ho incontrato Rocco Casalino e ho chiesto del famoso vertice oggi di maggioranza teoricamente sulla manovra in realtà probabilmente sugli equilibri di governo e ha detto che nulla è fissato in via ufficiale però il presidente Conte ha degli altri impegni invece ufficiali in agenda questo pomeriggio quindi sarà verosimilmente la sera subito dopo che Luigi Di Maio avrà incontrato i deputati contro quello che è previsto per le 8 di questa sera ok invece Diego cosa fa gira per il vertice buone Diego la maggioranza di questa mattina è appena finito io al vertice no ancora non siamo messi così male cioè nel senso io seguo qua faccio le vasche anche io vedo quello che pesca Ludovica e copio che succede al governo secondo te lo vedi instabile stabile? beh stabile non è mai stato neanche per un minuto penso quindi non vedo perché dovrebbe esserlo adesso però però diciamo la sopravvivenza è sempre una cosa importante quindi non credo che cadranno domani ecco questa è la domanda buon lavoro a tutti e due andate in giro a cercare notizie io torno da Maurizio Molinari come diceva il mitico Andreotti sempre meglio tirare a campare che tirare le cuoia e anche per il governo credo che questa massima per il momento funzioni prego Maurizio ti avevo interrotto prima per la pubblicità ma sono qui sì l'interrogativo di cui stavamo parlando era come un governo di centrosinistra può andare in conto tentare di intercettare gli umori di un popolo di un elettorato di centrodestra chiaramente il tema è l'economia e il fisco questa finanziaria riduce le tasse in maniera inferiore all'attese della maggioranza degli italiani e quindi l'interrogativo è se su questo binario si possa obiettivamente il governo tentare di riguadagnare una parte del consenso perduto allora grazie Maurizio Molinari che ci riporta sempre alla concretezza perché in realtà appunto poi alla fine perché il popolo italiano in questa fase vota centrodestra è bassa come in Umbria perché ci sono alcuni grandi nodi che tra l'altro Molinari ci ricorda da molto tempo che non sono mai stati sciolti forse nemmeno affrontati ne parliamo stamattina con Augusto Minzolini che è arrivato a trovarci come sapete è il più grande retrocedista di tutti i tempi e interpreta Augusto Minzolini in tutti i sensi perché invece Antonio Di Pietro che è arrivato a trovarci anche lui viene interpretato nella fixo a 1994 da Antonio Gerardi ho detto prima che secondo me è più bello di Pietro mi è salutato ha più successo con le donne io c'era solo un poliziotto e carabinieri a fianco a me ah quindi è invidioso di Gerardi perché lui sta in mezzo alle donne e lei stava solo ma è una questione di pane e di denti che invidioso più come lo vede questo governo è un bel po' di tempo che non ci vediamo io e lei ma poi dicevate primi instabile stabile in realtà è nello stabile sta lì sta lì è lo stabile Palazzo Di G è arrivato a trovarci collegato con noi da Milano Pierfrancesco Maiorino esponente del PD buongiorno ben trovato come sta vivendo queste due giornate molto complicate di ieri e di oggi dopo il voto Umbro beh non è che sono proprio le più belle della nostra vita diciamoci la verità quindi ovviamente con attenzione apprensione io sono convinto del fatto che ci si debba dare un po' una mossa a Roma ma staccate voi la spina se le cose non funzionano ma io credo voglio vederla da un altro punto di vista voglio che le cose funzionino e quindi che si mettano lì in campo subito i provvedimenti a livello governativo che sono stati annunciati come inizio non per concludere e suggerirei a quelli che governano a Roma di smetterla di dire che ci facciamo schifo reciprocamente perché non è un grande modo per governare un po' però le posso dire una cosa Paolo le do la sensazione di una persona che tutti i giorni come dire guarda e studia la politica è una sensazione così profonda quella proprio del fatto che non vi piacete io ho seguito Narni quella mattina era tutto così posticcio sinceramente quella foto era così erano tutti imbarazzati nessuno voleva toccare l'altro che poi alla fine questa roba qui l'elettorato la sente cioè se non siete convinti voi non potreste mai convincere gli altri glielo dico proprio con sincerità eh ma questo credo che proprio sia il problema visto che anche Zingaretti le tue cose simili in maniera diciamo più educata rispetto a come le posso dire io però in queste ore il tema è questo facciamo il governo ci crediamo andiamo avanti e ci proviamo non lo facciamo elezioni punto rimanere al governo senza incassare provvedimenti senza metterli in campo senza essere efficaci ad esempio nell'azione che si può fare per detassare il lavoro e mettere a disposizione di tanti lavoratori italiani un po' di centinaia di euro in più faccio questo come altri esempi e senza fare tutto ciò è un suicidio mi pare che le basi ci sono però ci dobbiamo credere allora oggi Minzolini studia un po' la vicenda diciamo di come questo governo potrebbe cascare di come si potrebbero cambiare le maggioranze e parla di 20 parlamentari i grillini che decidono la risolatura nel senso che da una parte Salvini dice dobbiamo convincerli a venire da noi e dagli altri i grillini dicono addirittura un virgolettato di Villarosa il rischio è molto forte ci spieghi un po' questa vicenda? ma sai c'è un elemento innanzitutto io non credo al di là di quello che viene detto che Zingaretti al di là della necessità di ricompattare questo governo prenda la strada delle elezioni perché sarebbe una follia diciamoci la verità fare la manovra e andare al voto allora se abbiamo dato dello scemo a come si chiama? Salvini a Salvini quest'estate lo diamo pure a lui perché mi sembra una cosa paradossale gli conferrebbe poi riuscire le elezioni ci sarebbe tanto per essere chiari le difficoltà cui sta andando incontro il governo erano già scritte per cui chiaramente devi cercare di darti non puoi andare e poi parlo dell'argomento che ti interessa non è che puoi andare al voto in Umbria che è una regione che è quella che è in cui sono piccole e medie imprese fai una conferenza stampa sulla manovra e la cover della manovra è tasse e manette cioè capisci è assolutamente una sorta di suicidio è un suicidio tolto questo è evidente che quindi se Salvini vuole andare al voto deve staccare un pezzo della maggioranza e lui ci sta credendo perché al di là di quello che scrivono io ho riportato un'assemblea del gruppo della scorsa settimana è quello che ha detto successivamente cioè questi direlli perché vanno nella Lega perché sono delusi da Di Maio perché vogliono salvare la gannatura al prossimo giro un altro dei problemi che secondo me non ha affrontato seriamente il PD quindi è immaginare che il 5 Stelle scelga quando nel DNA dei 5 Stelle c'è una sorta di trasversalismo che è proprio naturale lì c'è anche una destra adesso non metto a dire i nomi ma c'è gente che è stata nel Messe lì dentro e non lo dico perché altrimenti li metterei in però è una destra vera allora l'elemento trasversale è evidente che tu lo devi tener conto cioè nel senso non puoi immaginare una cosa del genere perché altrimenti rischi che si dimezzano molto chiaramente oggi l'intervista al Corriere devo dire questo ragionamento lo fa già è successo un paio di roma allora il punto qual è allora visto che è così è chiaro che Salvini ha quella parte che è in sofferenza per questo equilibrio che potrebbe andare da lui e oltretutto anche un'altra possibilità essendo in ascesa può anche diciamo attirare è un magnete con il taglio dei parlamentari e in più con percentuali che diminuiscono con la maggior parte che perde il posto è un magnete naturale allora a questo punto lui tenterà quest'operazione io non so se gli possa riuscire o meno però è evidente che è la strada che deve intraprendere dall'altra parte l'unico che forse ha capito che quello è rischio è Renzi che tant'è sta facendo la stessa cosa l'altro magnete naturale come li chiama Minzolini è cercato di essere Matteo Renzi che lo dice in maniera molto esplicita ma poi ti dico la cosa quella lì è la cartina di tornasole che se c'è qualcuno che in questo momento punta non a creare casino ma a continuare in questa esperienza di governo per tanti motivi che possono essere anche egoistici nel senso il fatto che ha fatto una scissione adesso ha creato un governo adesso è Renzi io nel frattempo continuo a trattare malissimo il PD Zingaretti poi dice pure ma io sto governo non lo volevo fare Renzi mi è costretto faccio il governo mi insultano a me e pure Zingaretti posso dirti una cosa per quanto sia molto educato io a Maiorino li voglio bene però adesso a Maiorino posso anche voler bene però facciamo un discorso assolutamente di analisi politica tu hai visto quello che è successo in Umbria in Umbria c'è un problema che non riesce a stare insieme con i 5 Stelle perché altrimenti perdono un pezzo e dall'altra parte hai invece un centrodestra che esce fuori con una certa forza immaginare in uno schema del genere di proporre come è stato fatto nelle scorse settimane una legge maggioritaria è quello di scegliere diciamo di essere diciamo distrutti diverso è se tu casomai tenti di fare una coalizione perché sono sempre stati a sinistra sono stati sempre più bravi rispetto alla destra sulle coalizioni tentando di dare dei ruoli è evidente che il PD non può più immaginare finisco qui di essere un partito con vocazione maggioritaria semmai dovrebbe porsi il problema di ricostruire la sinistra dando modo agli altri di ragionare e di avere delle parti in commedia devo dire che lo spiegone di Minzolini non è nulla da invidiare lo spiegone di Damilano sinceramente detto questo andiamo un attimo a Napoli perché ieri a Napoli c'è arrivata Mariana Boschi con Italia Viva e anche lì un po' di magnete naturale caro Augusto ci sta guardate Noi siamo qui per lanciare il progetto di Italia Viva guardiamo all'Italia del 2029 La sconfitta del centro-sinistra in Umbria sembra non aver scalfito il buon umore di Italia Viva almeno a sentire Maria Elena Boschi non commento i risultati dell'Umbria tanto più quelli che riguardano un altro partito io credo che noi dobbiamo andare avanti con il lavoro del governo negli interessi dei cittadini L'ex ministro delle riforme è a Napoli nel quartiere Bene di Chiaia per lanciare la nuova creatura renziana Tante persone si avvicineranno al nostro partito a Napoli a Roma a Firenze a Milano e noi siamo contenti però a me piacerebbe un partito capace di avere il coraggio di chiedere quali idee porti non quante tessere hai Davanti a quasi 500 napoletani Maria Elena Boschi presenta l'ultimo frutto della campagna acquisti parlamentare di Italia Viva e il campano Catello Vitiello ex grillino cacciato dal movimento perché in odore di massoneria Di nuovo c'è il progetto e soprattutto ci sono io sì sono io il nuovo di Italia Viva Che differenza c'è tra lei Razzi e Scilipoti? No ma ci stanno enormi differenze io non sono saltato da un partito all'altro io sto ho fatto praticamente tutta quasi la legislatura fino ad oggi nel gruppo misto non sono stato in un partito L'obiettivo che si è dato Renzi con Italia Viva è chiaro far crescere i suoi in Parlamento negli enti locali e tra gli elettori pescando in ogni forza politica e ovviamente anche tra gli ex amici del PD è una campagna a cui si è assolutamente sbagliata è come se fosse una vendetta nel senso di dire adesso vi faccio vedere io quello che sono capace di fare trovo sbagliate molte accuse che vengono fatte da alcuni componenti di Italia Viva nei confronti del Partito Democratico ci ha deluso questa è stata una forte delusione perché da quando è morto Berlinguer hanno diviso il Partito Comunista in dieci partitivi ed è stato un errore tra pochi mesi si voterà anche qui in campagna i renziani si candidano a diventare lago della bilancia per le sorti non solo del centro-sinistra ma dello stesso governatore Vincenzo De Luca sterrete De Luca alle prossime elezioni nelle prossime settimane sicuramente affronteremo tutti i temi che riguardano le regionali in campagna come nelle molte altre regioni che andranno al voto la prossima primavera a cominciare dalla Toscana credo che il primo elemento fondamentale come sempre sia ascoltare comunque i territori e le comunità Allora non so se ve lo ricordate Catello Vitiello Catello Vitiello Io però per un'esperienza personale in politica diretta ho tutta un'altra idea del perché il Movimento 5 Stelle ha perso e continuerà a perdere inerosabilmente andremo a finire la verità è che dopo il catacrisma dei partiti della Prima Repubblica sono nati più per protesta e per il mal di pancia che si è rivolto verso di loro partiti che hanno guardato la persona Di Pietro è uno di quelli ma sono arrivato al 10% e dov'è? Dove sono? Italia ha dei valori dopo di che io sono 7 anni che non l'ho fatto più perché ho capito questo ma Berlusconi è inutile che il mio partito il mio partito se ne andrà pure lui il Movimento 5 Stelle Grillo 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 e se ne andrà pure lui Dini Monti cioè voglio dire è parte della vita politica quindi questa idea ho sbagliato a stare col PD ho sbagliato per la Lega no quel partito come anche quello che ho fatto io era un partito che va ringraziato perché in quel momento la rabbia dei cittadini l'ha portata nelle urne invece che a sfasciare le macchine ma è un partito che anche quello deve raccontare la storia che fu come la posso raccontare io quindi 5 Stelle sono finiti secondo lei ma non solo 5 Stelle 5 Stelle Forza Italia come tutti gli altri c'è un ritmo e prima o poi succederà così anche a Renzi perché se si fa un partito a uso il consumo suo anche lui avrà i capelli bianchi se non rinascono una volta per tutti quei partiti che famiglie politiche sono stati uno di quelli che portato via nel cattivo ha portato via pure il buono ma io sto parlando di politica adesso lo rifarei mille volte quell'inchiesta voi siete tutti d'accordo con me io sto parlando di politica io quei partiti li ho dovuto pulire sul piano giudiziario perché c'era qualcuno che fregava i soldi agli altri ma detto questo il modello cioè puoi non condividerelo ma c'era un'ideologia socialista democristiana liberale repubblicana adesso è arrivato l'Italia dei Valori che lo votavano a Di Pietro è arrivato Grillo votano a Grillo votano a Berlusconi quando c'era i capelli votano a Regi perché sa farvi abbiate i capelli quindi questa idea di dire come sta dicendo adesso Di Maio abbiamo sbagliato quello dobbiamo dare vai da solo manda tua moglie ti rimane allora questo è un momento io sono stata zitta perché è un momento molto importante lo dico anche a Piero di Pietro dice io li ho dovuti punire perché c'era malaffare in quei partiti però io continuo a pensare che le grandi famiglie politiche del novecento erano una cosa molto seria molto importante molto radicata hanno dato la costituzione italiana sì ma no beh certo è una cosa molto importante questa che dice Di Pietro io credo che lui dovrebbe fare un passo Di Pietro a me sta molto simpatico è una scuola tanto tempo personaggio straordinario della politica italiana e anche della non politica l'entrata l'uscita eccetera però io penso io controverso però io penso che dovrebbe fare un passo ulteriore nella riflessione io lo faccio da molto tempo non credo che quella stagione sia stata una stagione positiva la stagione in 92-94 è stato un momento drammatico per l'Italia nella quale è stata colpita poi dopo lui può dire quando lui dice ho distrutto le cose buone con le cattive dice una cosa una grande critica ho capito ma noi adesso se vogliamo dare un giudizio storico su quello che è successo è successa una cosa molto grave perché è stata annientata la politica ed è stata annientata addirittura qualcosa di più non quei partiti ma l'idea di politica i giovani nati arrivati alla politica dopo il 92 parte Maiorino forse hanno un'idea di politica come di una cosa sporca non c'è più una generazione politica nel senso quando io ero ragazzino fare politica era una cosa meravigliosa ed era anche socialmente una grande hai detto tutto è una tragedia mi devi solo aggiungere il soggetto hanno annientato il soggetto chi il soggetto di Pietro è un pezzo e non c'è dubbio che la magistratura italiana ha una responsabilità molto forte ma perché non doveva fare quelle che ha fatto e ce l'ha ancora adesso ma lascia stare non doveva fare quelle che ha fatto no penso di no io penso di no penso che ha fatto dei gravi errori io penso che ha fatto dei gravi errori è evidente che lasciamo la storia siccome lui è testimone lasciamo la storia a queste due dichiarazioni io penso che ha fatto e tanto non ci saremo quando la storia deciderà non ci sarei tu e io però sta dicendo una cosa importante Sanzoletti Sanzoletti dice tra l'aver fatto mani pulite aver prodotto quell'effetto e tenerci quella classe politica della prima repubblica che ha indebitato i 2.000 miliardi lo Stato italiano con gli sprechi e i latrocini che ha fatto no non li ha indebitati i 2.000 miliardi Di Pietro il debito è arrivato praticamente tutto dopo e aveva portato l'Italia ad essere un grande paese sono d'accordo con Di Pietro lasciamo alla storia queste due versioni dei fatti Di Pietro nel suo piccolo dice io ho fatto il medico chirurgo che ho visto un malato Italia che aveva un tumore e ho cercato di togliere quel tumore il malato Italia è rimasto e sta morendo è perché il medico ha tolto quel tumore o perché questi continuano a farsi venire i tumori tutti i giorni? fermiamoci mi colpisce molto questa discussione lo voglio dire perché capiamo davvero qual è la grande ferita di questo paese ogni volta che per puro caso si sfiora il tema Mani Pulite il tema 92 questa cosa riemerge ed è veramente la grande ferita non rimarginata del nostro paese posso dire noi abbiamo pagato perché nel momento in cui abbiamo spazzato via un'intera classe dirigente poi è avvenuto quello che dicevi tu però c'è un punto essenziale secondo me su cui uno dovrebbe riflettere per vedere che diciamo probabilmente potrebbe essere fatto in maniera diversa il veicolo su cui il reato su cui è stato messo alla sbarra quella classe politica era il finanziamento ai partiti il finanziamento illecito ai partiti un reato che appena nell'89 era stato amministriato allora il punto qual è? è giusto che una cosa del genere che è stata amministriata due anni prima due anni dopo di fatto fa rasa tabula rasa dell'intera classe dirigente di un paese io questa è la riflessione perché ormai passiamo in termini storici io vi prometto una cosa che noi facciamo faremo una puntata speciale su questo tema che è arrivato quello che è sulla solità anche nel 94 era corruzione e da quel momento di Pietro ha fatto una grande autocritica un grande ragionamento su un momento storico molto importante nessuno ne ha parlato finisco questo ho parlato per sei ore circa alla corte d'assiste d'appello di Palermo di quegli anni di che cosa è successo a partire dalla morte di Falcone e Borsellino di come le imprese del nord si sono inserite nella mafia del sud cioè c'è stato tutto un fatto che forse voi che siete giornalisti storici sarebbe ora al di là dei bei film che vediamo di scriverla questa storia perché io la vivo come una sconfitta avete ragione io la vivo come una sconfitta quello che è successo perché quella storia lì non la scritta nessuno ma per un motivo molto semplice perché ci sono state due mali primo chi stava facendo qualcosa è stato fermato non io ma prima e più di me Falcone e Borsellino a me mi hanno soltanto delegittimato quando stavo arrivando anch'io attraverso il gruppo Gardini stavo arrivando dei rapporti con la mafia e mi hanno fermato con la delegittimazione ma soprattutto un altro guaio c'è stata su questa ragione Sanzonetti non è che è facile però ha ragione perché io lo leggo tutti i giorni con attenzione Di Pietro sono nati di Pietrini cioè quelli che non cercavano più il tumore cercavano di vedere che corpo ha questo qua che risultate che sono nati le cosiddette contestazioni del 323 dell'abuso d'ufficio che è il reato che segna la sconfitta dello Stato perché delle due l'una o due più due non sai che fa quattro e scrivi cinque perché è sbagliato non è reato ma se lo sai vuol dire che qualcosa devi prendere allora questa mania di contestare a tutti i 416 bis di contestare a tutti l'abuso d'ufficio di contestare a tutti ha creato gli Pietrini allora mi pare che ma oggi sono così non è finita qua perché Di Pietro non ha soltanto creato di Pietrini l'Italia dei Valori è stato anche il grande laboratorio ai noi dei cambia di casacca dei responsabili di Volta Gabbana perché c'è pure questo lui ha sempre detto ho creato dei mostri e in questo momento mi sembra la differenza che loro hanno avuto loro se ci riflettete il come si chiama quello che ha detto me ne frego io Razzi è la rimosso scusate un attimo voglio dire solo una cosa la differenza fra Razzi e gli altri qual è? che lui ha detto quel che tutti gli altri fanno cioè chi è peggio chi lo dice pure o chi predica bene il razzo da mare chi ti frega la minestra si nasconde quanti razzi quanti razzi sono fatti i razzi loro vediamolo un momento questa scheda che abbiamo preparato su tutti i cambi di casacca sono stati tanti e poi vediamo arriviamo all'oggi arriva possiamo partire da Razzi come suggerito la di Pietro ok vincolo di mandato sei in un partito sei in un movimento stai lì non è che puoi uscire andare da un altro fatti comprare andare di qua e di là dobbiamo mettere fine a questo mercato delle banche a me pare un'altra cosa si non Grillo seppure anche Di Pietro è avvocato anche Grillo proviamo a stare attenti perché Di Pietro è un fiume in piena razzi anche per i cazzi miei io ho pensato anche per i cazzi miei perciò ho fatto poco le cazze non rompere i coglioni più chi meglio di Antonio Razzi senatore passato nel 2010 da Di Pietro a Berlusconi può rivendicare il diritto d'autore sul manifesto dei Volta Gabbana responsabili o traditori i parlamentari che come lui hanno cambiato casacca per salvare lo stipendio sono diventati il simbolo della politica che si fa i fatti suoni e siamo parlamentari perché gli interessi di partito non possono essere superiori agli interessi della nazione mancano pochi giorni a Natale del 2010 e l'Italia scopre Mimmo Scilipoti in piena crisi politica è lui con la sua truppa di responsabili a cambiare improvvisamente casacca dall'Italia dei Valori a Berlusconi il salto è tripo io sono stato finanziato per il mio movimento politico poi perché mi abbiano dato due milioni in nero me lo sono chiesto la missione dell'ex senatore De Gregorio passato anche lui dall'IDV a Forza Italia apre il vaso di Pandora di una vicenda che finisce nelle aule di tribunale l'accusa poi prescritta nei suoi confronti e del CAV è pesante con praventa di senatori per far cadere il governo Prodi tra il 2006 e il 2008 non si sta in Parlamento con i voti presi dal PD per andare contro il PD un giovane Matteo Renzi si scaglia contro il cambio di casacca di Paola Binetti eletta nel PD e convertita all'UDC nove anni dopo è lui ad aprire la campagna acquisti per rimpolpare le fila della sua nuova creatura politica ormai lontana dal Nazareno questa nostra forza come partito è ovviamente aperta a tutti le nostre porte sono aperte a chiunque abbia la dignità che viene prima della poltrona e anche nei 5 Stelle c'è gente fortunatamente per cui la dignità vale più della poltrona a ognuno il suo se il leader della Lega guarda i grillini delusi l'altro Matteo strizza l'occhio ai delusi di Forza Italia nel mezzo al movimento in crisi di consensi combatte la lotta per il vincolo di mandato e minaccia multe per chi tradisce ma deve fare i conti con chi se ne va il deputato Davide Galantino ha dichiarato di aderire al gruppo parlamentare Fratelli d'Italia e allora porti aperte porti aperte porti girevoli tutti hanno le porti aperte si è riaperta la legge Merlini hanno abrogato la legge Merlini io non l'opinione di Pietro allora Renzi dice siamo andati negli obiettivi 50 parlamentari è partito con 41 già ne ha presi altri 4 mi diceva Luca Gentile che ora ci spiegherà le cose per dirvi insomma che veramente è un momento di grande movimento vedo tra l'altro Carabetta dei 5 Stelle è superstar nei vicoli romani circondato da telecamere e microfoni vuol dire che è un momento delicato quando succedono questi casi che sta dicendo Carabetta Ludovica? poi bisogna chiarirsi su queste misure avete visto che negli ultimi giorni c'è stata un'interlocuzione sulla lotta all'evasione non su se farla o meno ma su come farla e abbiamo dei provvedimenti di cui discutere discuteremo salve Carabetta ben trovato sono Mirta buongiorno Mirta buongiorno come andiamo? che succede? avete le riunioni un po' tese questa mattina? no beh è chiaro che dopo il risultato dell'Umbria ci si stia parlando forse non è stata impostata bene la campagna elettorale tutti noi forse potevamo fare di più e poi sicuramente si parla anche del resto abbiamo comunque un collegato fiscale e la legge di bilancio da portare avanti beh visto che Di Maio ha detto una cosa e Conte ha detto l'opposto perché lei per carità lei è sempre molto moderato ma Di Maio dice alleanze col PD finita esperimentano malissimo e Conte dice riflettiamo bisogna andare avanti come la gestite questa dicotomia? anzi beh stiamo parlando di elezioni regionali e la singola elezione regionale che è quella dell'Umbria non ha a che fare anche con le altre elezioni e comunque le elezioni regionali non hanno nulla a che vedere col governo le condizioni del governo sono state diverse ci siamo trovati quest'estate in questa situazione con la Lega che ha fatto saltare tutto il rischio di far aumentare l'IVA e siamo intervenuti in un certo modo quindi le condizioni del governo sono totalmente diverse da quelle delle condizioni delle elezioni regionali il che vuol dire che a seconda poi adesso stiamo valutando come è andata questa non è andata bene ne prendiamo atto ci confronteremo con i nostri iscritti come noi facciamo sempre con la base con i gruppi locali e poi prenderemo delle decisioni mi sembra molto presto per dirle io non sono stato diciamo tra i fan di questo tipo di impostazione però sono il primo a dire che se c'è un progetto in generale che sia governo che sia altro se c'è un progetto che manda avanti delle persone valide al di fuori della politica al di fuori più che altro dei partiti con delle buone energie si può anche discutere cioè io lascerei eventualmente la porta aperta sulla discussione di queste cose chiaro è che l'esperimento in Umbria non è andato bene bisogna parlarne e vedere se effettivamente possa essere replicabile oppure no io in questo momento non mi sento di dire né sì né no probabilmente è stato impostato male questo probabilmente possiamo fare ancora altro dobbiamo vedere i risultati che otteniamo in questi mesi grazie Carabetta alla prossima arrivederci buon lavoro Maiorino voleva dire una cosa mi pare di capire Maiorino che anche in Emilia Romagna si vuole candidato civico come vedete è un candidato invece governatore che secondo tutti voi ha governato molto bene che è anche un ottimo presidente di regione un ottimo governatore Bonacini io credo che davvero dobbiamo difenderne la sua ricandidatura poi al massimo allargare l'alleanza questo è un altro tipo di discorso ma non farlo saltare penso che sarebbe sinceramente un errore la cosa però che volevo la cosa che volevo dire è questa che il Movimento 5 Stelle secondo me sta un po' esasperando un po' troppo il concetto del lago della bilancia perché loro fanno un ragionamento per cui scegliere di volta in volta a volte sembra quasi che vogliano scegliere laddove c'è il potere punto e non un progetto un'idea degli obiettivi di fondo rischiano di passare un po' paradossalmente proprio loro che hanno fatto irruzione sulla scena dicendo di voler cambiare radicalmente tutto rischiano di passare un po' come quelli che stanno semplicemente a fare i calcoli per rimanere attaccati alla poltrona questo lo dico diciamo da quasi più da chi osserva le cose e si augura evidentemente che riparta bene l'azione di governo è chiaro voglio far entrare Luca Gentile voglio tornare ai cambi di casacca perché insomma gli esempi del passato sono moltissimi dicevamo con Di Pietro prima l'ultimo questo Catello Vittiello che fu lo voglio ricordare fu mollato in piena campagna elettorale dai 5 Stelle non è l'ultimo c'era l'ultima è stata la compagna di banco di Bersani la compagna di banco di Bersani di Bersani chi è? a Montecitorio adesso non mi ricordo il nome però io l'ho scritto occhio nero occhio nero Giuseppina occhio nero ah occhio nero gli hanno fatto l'occhio nero occhio nero e si è sposata con Renzi si è passata dal gruppo di libri uguali dopo Catello che aveva già annunciato è stata ufficializzata come abbiamo visto non ce la faremo mai li rincorriamo inutilmente va bene Luca vediamo se sei arrivato fino all'ultimo minuto è una conta molto difficile noi partiamo da un po' questa una specie di album di famiglia abbiamo visto Razzi e Scilipoti non sono gli unici non sono neanche sono diventati un po' l'icona del cambio di casacca ma forse un po' ingiustamente perché in realtà per esempio il record del senatore Luigi Compagna che nella scorsa legislatura ha fatto ben nove cambi di casacca un uomo libero si definisce lui lo voglio dire molto libero spesso me lo dice libero ed è giusto che sia così come si chiama anche quella parlamentare Dorina Bianchi ha fatto tanto movimento sì giustamente libero ai massimi livelli perché in realtà è uno strumento che ovviamente nella democrazia parlamentare si usa in realtà va specificato che i numeri che vedremo tra poco sono grossissimi soffrono pagano un aspetto che quando si passa da un gruppo si transita dal gruppo misto quindi questo vale un po' come un cambio come un doppio cambio quindi questo gonfia un po' i numeri andiamo a vedere i numeri tu esci da Italia dei Valori per ricordarsi il passato vai nel gruppo misto poi ti ripiazzi su Forza Italia per esempio questo vale come un doppio cambio al fine del conteggio c'è una pausa tecnica diciamo nel gruppo misto per andare a vedere più di più come si fai sul mercato tu quando tu quando tu quando è un po' in limbo ma tu nero tu bianco e al cobaleno andiamo a vedere i numeri facciamo finire Luca poi torno da te come stiamo in questa che ci aggiunga in casa in ultimi 30 secondi questo è passato lo stavo vedendo sul telefonino esatto lui dice c'era proprio un attivo borsino gli ultimi 30 secondi prego come stiamo in questa legislatura bene ma non benissimo nel senso che siamo sulla falsariga della legislatura precedente della sedicesima quindi non di quella precedente ma di quella del 2008 o 2013 ad oggi siamo a 82 cambi di casacca fino al governo Conte quindi fino ad agosto 28 soltanto e qui tra l'altro ci sono i 14 che dal misto passano a liberi uguali quindi diciamo il saldo è abbastanza piccolo quando c'è la crisi di governo quindi si passa al governo Conte 2 saliamo a 54 ma questo è un dato che va chiarito perché lì dentro c'è Italia Viva c'è la scissione quindi la formazione ecco anche perché appunto questo lo voglio dire però sono cose diverse una cosa è un cambio di casacca singolo una cosa è una scissione questo vale per liberi uguali e anche sul cambio di casacca quelle sono più di tre è un'associazione e anche sul cambio di casacca c'è una differenza sia nella stessa area o se cambia area anche rispetto a un progetto politico perché è molto diverso c'è un cambio di casacca è un cambio di casacca ci suggerisce i franzonetti può essere più o meno acrobatici può essere più o meno acrobatici è come sintetizzare il nostro album c'è un po' di tutto dentro c'è chi passa diciamo in maniera un po' imprevedibile da un l'altro e poi c'è le scissioni che formano le scissioni questa è Giuseppina Occhionetto l'hanno trovata in regia che è stata eletta con liberi uguali appunto ed è passata con Italia Viva ma è del paese mio è la miseria è la rilo campo basso è una di pieterina ma non ce ne può ma sto povero morisce ma me lo stavano l'altro è una di pieterina ma no no grazie a Dio il danno terribile è quello che ha posto Augusto siamo piccoli piccoli compagna di Banco di Bersani perché una compagna di Banco di Bersani va con Renzi ma sai partiamo da un presupposto il vincolo di mandato secondo me non devi averlo perché puoi cambiare parti da un presupposto perché adesso c'è nel ventennio se qualcuno diciamo vedeva l'evoluzione del partito fascista e se ne andava che doveva fare doveva arrivare là ah no per carità bravo secondo passaggio noi stiamo in una fase complicata a me mi è capitato la scorsa legislatura non ero d'accordo con le riforme di Renzi c'era il patto del Nazareno ma non sei passato altrove non sono però fare una battaglia dentro un partito e me lo ricordo in questa condizione me lo ricordo le minoranze non vengono garantite io l'ho fatto perché me ne frego ma detto questo immagina quelli come vengono sottoposti a pressione o a pressione perché non c'è dovresti fare una carta dei diritti dentro un partito in cui le minoranze vengono garantite purtroppo e torniamo al discorso di Pietro prima avevamo dei partiti che avevano con le correnti avevano le regole in cui le minoranze erano garantite avevano proprio c'era un modo di fare perché ne dicevano essendo lideristici è il capo che decide questo è giusto e questo no allora Maiorino vuol dire una cosa salta sulla sedia ma un po' Maiorino guardate voglio dire una cosa molto semplice che con tutto quanto mi può piacere l'operazione di Renzi però io credo che sinceramente non siano paragonabili le cose cioè un conto è un progetto politico diverso una critica una critica a viso aperto la cosa che diceva adesso Minzolini su cui sono d'accordo nel senso che il pluralismo le opinioni differenti un conto è corrompere i parlamentari per far cadere i governi questo è un altro tipo di discorso ma infatti Maiorino sinceramente il trappolone a Prodi fu di questo secondo tipo non perché quei 3-4 che abbiamo visto prima hanno cambiato sul piano cultural politico ma io infatti do tutta la dignità politica al progetto di Renzi diciamo che ma voglio dire lo dico adesso mi trovo paradossalmente a difendere Renzi sinceramente che vogliono difendere Renzi ogni tanto può capitare dipende da chi lo aggredisce dipende da chi lo aggredisce però oggettivamente anche anche questi esponenti politici hanno il diritto a fare la scelta perché massone passi con Renzi lei permette un po' di più ciò per vivere quello è un altro discorso magari stiano un po' attenti a chi si imbarcano la scelta di Berlusconi è diverso sì ma sono cose esatto ma c'è Bersani ma li chiediamo di occhio nero sono episodi sono episodi diversi eccomi non vuol parlare che cosa è successo in Umbria lasciatemi perdere chi ha sbagliato in Umbria oggi farò tante tv che non avete idea come lasciatemi perdere che ha detto e quindi perché proprio con noi non dovrebbe parlare c'è un momento che uno cosa è stato sbagliato in Umbria dove è andato qua lasciatemi andare con questo ragazzo qui è stato un errore e chi è questo ragazzo è un periodo di lutto lasciatelo stare dai va bene non vuole parlare Bersani lasciatemi perdere niente va bene entrami in studio mica non voglio parlare Bersani allora torniamo un attimo a te Luca devi finire assolutamente chiederei alla grafica e tornare brevemente al cartello precedente perché c'è un dato importante i numeri della scorsa legislatura che è la legislatura record 348 parlamentari cambiano qui ci sono le scissioni ci sono importanti nel CDA 348 parlamentari 569 passaggi quella precedente è un po' sulla falsarica di questa più o meno 4 cambi e mezzo al mese andiamo a vedere il dettaglio di Italia Viva che gonfia i numeri nel governo Conte 2 39 arrivano dal PD va bene quella è una scissione questo lo sappiamo due arrivano dal Movimento 5 Stelle c'è Donatella Consatti che arriva da Forza Italia Giuseppino Occhioneo l'abbiamo visto da Leo ci sono diverse Nencini dal PSI il totale è di 45 28 qual è il PSI scusa? questo ah ok Nencini che offre anche il simbolo è Lorenzini è nata nel PD però perché sta lì? ehm Lorenzini è la lista Lorenzini esatto no ma è entrata nel PD no ma è entrata ce n'è una che è andata però è un'Italia Viva però c'è una c'è una sola linea ideologica qui come la prima repubblica giusto? c'è tutto il partito come lo vuoi da destra a sinistra effettivamente è vero Mirta posso dire una cosa nel senato americano ci sono 100 senatori e il presidente ogni volta quando va in senato e si cerca la maggioranza e spesso non la trova perché alcuni repubblicani passano con i democratici alcuni democratici passano con i repubblicani nessuno però considera questo trasformismo è semplicemente il massimo del non vincolo di mandato e il massimo del potere del Parlamento il senato americano è un senato libero che decide che la riforma sanitaria si fa perché alcuni senatori repubblicani vanno con i democratici e viceversa può essere anche democrazia questa che vanno naturalmente affermate e difese e invece l'interesse pubblicità e ci torniamo fra un momento vedo che è collegato con noi da Montecitorio sostanzialmente dalla strada dove i gruppi parlamentari hanno la loro entrata Gennaro Migliore di Italia Viva per appunto lei mi deve spiegare Gennaro Migliore la new entry Catello Vitiello però per un secondo perché non vorrei se in basta che solo Italia Viva fa shopping qua ci sono tanti altri partiti quindi fatti un attimo Luca Gentile chiude un attimo la sua descrizione perché sennò è incompleta e poi lei mi spiega di Catello Vitiello abbiamo visto come appunto il PD contribuisca in larga parte a formare Italia Viva ma passiamo al cartello successivo perché c'è anche il Movimento 5 Stelle che non ha una vera e propria scissione vediamo il cartello successivo ma ci sono 16 cambi di casacca è un dettaglio molto stretto non è tanto importante diciamo scendere nel dettaglio dei nomi ma capire che qui dentro ci sono innanzitutto coloro che all'inizio della registratura anche i Fratelli d'Italia sono andati vedi aveva ragione il nostro C'è Salvatore Gaicaiata che è uno dei candidati con il Movimento 5 Stelle che ancora prima di essere eletti vengono sconfessati dal Movimento sbattuti sostanzialmente fuori pure qua andiamo da Fratelli d'Italia e anche qui vediamo i simboli liberi uguali quindi tutto l'arco costituzionale ma la particolarità qual è? che escono solo da 5 Stelle non entro ci sono anche gli espulsi nel Movimento 5 Stelle non entra nessuno ci sono gli espulsi nel Movimento 5 Stelle c'è Paola Nugnes a proposito dei discorsori di Pietro per capirci capisci a me c'è un tempo per ogni cosa bisogna avere l'umiltà e poi l'arco costituzionale è stato abolito da Di Pietro come il nostro che lo ha cancellato e messo dietro le sbarre andiamo avanti Luca esatto c'è il dissenso di Matteo Dell'Osso che esce insomma ci sono diversi motivi di Castelli si esce andiamo a cartello successivo il centrodestra che soffre meno di tutti soffre poco Forza Italia per l'ascissione di Toti di Cambiamo meno 4 c'è anche chi entra dentro Forza Italia c'è Sgarbi che esce comunque il saldo è di 4 in meno quindi rimane sui 160 Fratelli d'Italia conquista 3 parlamentari mentre la Lega rimane sostanzialmente stabile perde soltanto un deputato e quindi arriva a 180 82 va nel misto ed è consulto Carmelo Lomonte che passa dal gruppo misto annuncia ed è l'unica è uno che sarebbe la Lega Vincente dobbiamo conoscerlo questo va bene grazie Luca allora migliore ieri c'era anche lei a Napoli con Maria Elena Boschi la presentazione d'Italia Viva e è venuta fuori questa storia lo so lo immagino la sua città quindi c'era lei giustamente mi dica una cosa Catello Vitiello perché abbiamo molto ragionato qui sul fatto che dobbiamo ricordare questo è un signore che fu cacciato dal Movimento 5 Stelle perché era un massone in sonno lui disse che anche Russo era massone come giustificazione però insomma il tema si pone mi pare che sia stata chiarita da Vitiello questa vicenda già all'epoca e quindi credo che sia un po' da aggiornare dopodiché ieri è stata una manifestazione straordinaria per chi conosce Napoli come del resto anche lei la conosce molto bene la più grande sala che esiste nella nostra città non solo era completamente gremita ma c'erano moltissime persone fuori insomma un po' un effetto Leopolda con purtroppo tante persone che non sono riuscite a entrare ma questo ha testimoniato anche la grande partecipazione quindi lei registra molto entusiasmo c'erano anche sì 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 un entusiasmo incredibile e anche una presenza di giovani di persone che magari non si sono avvicinate alla politica io non ricordavo una manifestazione così grande da anni al centro di Napoli non teme migliore che questa idea però delle porti aperte venite a noi delusi di Forza Italia sia da una sensazione poi alle persone di un partito spregiudicato no perché noi ovviamente abbiamo un progetto che è incardinato nella carta dei valori che spero che prima o poi venga anche letta da tanti visto che chiunque si iscrive al nostro partito deve sottoscriverla che ha dei principi molto saldi rispetto ai quali io penso che ci deve essere una totale tranquillità evidentemente ci sono molti che non si riconoscono più nella costruzione sovranista che ormai caratterizza la destra che non si può più chiamare centrodestra e ci sono anche persone di sinistra mi scusi che abbiamo pochissimo tempo un'altra domanda lei lo sa che la sconfitta Umbra da molti anche Zingaretti viene interpretata anche come l'effetto del cannoneggiamento renziano contro la manovra cioè si è arrivati i fragili deboli alla scadenza elettorale ricordo quando eravamo insieme che si disse che il Parlamento non era un passacarte adesso che noi facciamo delle proposte emendative ribadendo anche che voteremo insieme alla maggioranza mi pare che ci sia un eccesso di fibrillazioni all'interno del Partito Democratico io penso che le analisi delle sconfitte si devono fare perché si può perdere ma senza perdere la faccia però perché dire che è colpa di Renzi mi sembra un po' forte prego risponda lei ma non devo io non devo rispondere faccio gli auguri a Gennaro di buona avventura non saremo mai avversari e io ne sono convinto mi auguro che questo valga anche per voi mi limito a dire questo allora risponda lei migliore come se si fosse detto a Dio però caro io ne sono io ne sono pienamente convinto tra l'altro con Maiorino non è la prima volta che ci troveremo insieme su tutte le questioni dei migranti dell'accoglienza della democrazia siamo sempre stati insieme e continueremo ad esserlo e lo vedremo anche sulla vicenda libica però devo essere sincero io sono rimasto un po' gelato quando ho visto quella dichiarazione è colpa di Renzi perché il segretario del partito democratico come un leader è giusto che faccia la prima cosa che fa fa un'analisi del voto e poi cerca giustificazioni però non è non ha detto è colpa di Renzi dai non diciamo cose sbagliate capisco che questa sottolineatura ci sia da parte di chi conduce la trasmissione ma non ha detto è colpa di Renzi certo è c'è un punto se adesso dobbiamo governare dicendoci ogni due giorni cosa non funziona dell'azione di governo tanto vale dirsi che non ce la facciamo questa secondo me è l'unica cosa vera ho visto che abbiamo appena annunciato a prossimo verso di maggioranza vorrei dare una mano tra Italia Viva e PD ce la metto tutta mi auguro che non ci sia bisogno della mediazione di Mirta Merlino ho visto ad esempio che Zingaretti ha annunciato che arriveranno mille euro nel 2020 ai lavoratori italiani grazie all'azione sul pugno fiscale andiamo avanti in quella direzione pubblicità torniamo subito Ludovica rimani là così mi spieghi cosa mi vuoi dire torniamo subito con voi è già arrivato il professor Sabino Cassese dovete sapere che quando c'è tanta confusione tanto disordine sento il bisogno di allineare i pianeti e la politica chiedo al professore venire a trovarmi perché lui mette ordine con grande saggezza quindi grazie di essere qui c'è anche con noi pieno tantomeni che è rimasto con noi e poi è arrivato il nostro meteorologo di Fituza grazie buongiorno io metto un pizzico di saggezza ma quella che mette il professore è sempre preziosissima no è vero se ne sente il bisogno allora la situazione vede ancora ma insomma questa è una cosa ormai è un po' il passato quella instabilità sullo stretto di Sicilia qualche temporale questa mattina però piano piano si esaurisce sono invece entrate delle nuvole hanno portato qualche pioggia non particolarmente forte vediamo quali sono gli sviluppi nella seconda parte della giornata di oggi ancora queste piogge che riguardano soprattutto il nord in parte l'alta Toscana però vedete che c'è anche già qualche macchia in cui potrebbe non piovere qualche piccola zona il grigio arriva anche su regioni centrali e al sud qualche debole pioggia insomma non è una situazione di vero e proprio mal tempo domani questa situazione si estende un po' è vero che al nord c'è qualche zona vedete per esempio il Veneto in cui magari non piove molto però c'è qualche pioggia sulle zone centrali al sud quindi è un mal tempo debole però abbastanza esteso abbastanza diffuso la giornata di giovedì vede qualche zona con dei fenomeni leggermente più intensi quindi non c'è un vero e proprio miglioramento a parte forse al nord al centro forse qualche temporale siamo sull'Appennino però qualche pioggia in giro c'è tenete conto che da domani a partire dal nord le temperature scendono non farà questo gran freddo però scendono quindi sarà un ponte un po' freddino mentre a San Paolo del Brasile siamo con minime di 20 e massime intorno ai 32 gradi anche troppo a qualcuno so che interessa grazie allora professor Cassetti a rimedere la parola però sento un attimo Ludovica perché cerchiamo sempre di fare entrare nella nostra trasmissione le fibrillazioni che attraversano i palazzi della politica che sta succedendo Ludovica allora Mirta intanto è stato finalmente fissato l'orario del vertice di maggioranza sulla manovra alle 15.30 a Palazzo Chigi si riuniranno Luigi Di Maio Nicola Zingaretti forse no però il capigruppo del Partito Democratico e con il Presidente Conte quindi si parlerà di bilancio ma non solo però volevo aggiungerti anche un altro elemento rilevante perché nella riunione di questa mattina che era una riunione sulle riforme non si è affrontato il tema della legge elettorale quindi si è preso ulteriormente tempo e ci si è dati appuntamento a un appuntamento di massima a dicembre entro dicembre bisognerà trovare una quadra quindi su quello non si è entrati ancora nel merito allora partirei da qui professor Cassese perché credo che la legge elettorale a questo punto sia abbastanza cruciale anche per la vita di questo governo perché insomma siamo in questa situazione strana in cui si ragiona con il maggioritario si è proporzionale non si capisce più nulla non si capisce nulla perché cambiamo troppo di frequente leggi elettorali le leggi elettorali sono longeve e invece in Italia sono di breve durata dovremmo fermarci su una legge elettorale e principalmente tenere conto che quello che è successo in Umbria in realtà è una cosa normale in ogni democrazia Schumpeter ha costruito la sua teoria della democrazia sull'alternanza dopo 49 anni c'è un'alternanza in Umbria niente di strano dice niente di strano anzi mio collega americano tanti anni fa scrisse un bel libro sulle democrazie fuori del comune e chiamava democrazia fuori del comune quelle dove non c'era l'alternanza una volta il Giappone e l'Italia perché c'era sempre la democrazia cristiana è interessantissimo questo ragionamento perché invece Salvini continua a dire l'ha detto anche ieri collegato con me che la democrazia fuori del comune quella italiana perché la maggioranza è di centro-destra e il governo invece è di centro-sinistra questa affermazione è una cosa un po' singolare perché è contraria all'ordinamento nel suo complesso perché in realtà noi vogliamo delle autonomie perché le autonomie siano autonome e per essere autonome possono avere degli indirizzi politici diversi e la nostra costruzione non è una democrazia ma più democrazie vogliamo delle democrazie comunali regionali e nazionali e nonché europee e dobbiamo accettare che ci siano orientamenti diversi ai diversi livelli se no se fossero tutte conforme che bisogno ci sarebbe di avere 20 regioni 8 mila comuni lo Stato perché si agitano tanto sia all'interno dell'opposizione che della maggioranza dopo il voto Umbro perché parlando con lei sembra tutto meravigliosamente chiaro poi invece io mi giro e vedo tutti che dichiarano che strepitano le alleanze così non si possono più fare Di Maio non vuole più vedere il PD che succede? Anch'io sono un po' agitato però dico però perché sono agitato io sono agitato per questo motivo perché il risultato dell'Umbria è il risultato di una cattiva gestione perché è venuto fuori un fatto che riguarda la gestione della struttura regionale e quindi è stato dato un voto negativo per questo motivo e questo è abbastanza chiaro e poi sono preoccupato per un'altra cosa e cioè l'assenza di politica assistiamo sempre di più a questo fenomeno si studiano gli schieramenti schieramenti si parla di schieramenti ma non si parla di politica io penso che gli italiani siano interessati a sapere qual è il loro futuro sapere se abbiamo speranze dove possiamo riporre le speranze questa è la politica Allora prima di dare la parola a Piero Sanzonetti tra l'altro un giorno la devo invitare con Salvini perché sarà molto interessante farlo parlare con Salvini io gliela eviterei l'esperienza io gliela eviterei io voglio bene il professor Cassese se si vuole se posso intercettare ma lei è pronto a farla questa esperienza no perché noi avevamo ragionato anche su queste due cartine 2015 erano tutte le regioni dell'anno rosse tranne pochissime al nord importanti ma poche 2019 sta cambiando completamente la mappa questo non crea un problema cioè lei mi sta dicendo che il fatto che il sentiment percepito nel paese sia un sentiment che si sposta verso il centro-destra non dà nessuna difficoltà al governo a governare no io ritengo che a mano a mano che passa il tempo dall'ultima elezione politica nazionale è a mano a mano che le regioni cambiano di orientamento bisogna registrare una modificazione di rapporto tra paese e e e e e e e e parlamento e la registrazione comporta una decisione difficile del presidente della repubblica che deve prendere secondo la costituzione sentiti i presidenti delle due camere cioè quegli organismi che poi dovrebbero essere sciolti se si giunge alla conclusione che oggi siamo a 12 no immaginiamo che si arrivi a 16 a 17 allora le due cose insieme la riflessione si può avviare si può avviare ma le due cose insieme anche il passaggio del tempo dall'ultima elezione nazionale allora Piero Sanzonetti è molto interessante perché quello che ci spiega Cassese ha a che fare con le regole complesse della democrazia quello che invece afferma i leader politici quasi sempre appunto specialmente dalla parte del centro-destra penso Savini e Lameloni tutto il giorno di ieri sono cose molto semplici se noi vinciamo perché loro rimangono nel palazzo a governare come si fa a tenere insieme questi due piani perché è complicato sono due piani sono un piano solo esistono le regole della democrazia e si rispettano in Italia c'è poco questa abitudine forse adesso vi faccio un esempio forse non c'entra niente però forse qualcosa c'entra gli americani recentemente hanno in grande maggioranza votato Hillary Clinton che ha avuto 4 milioni di voti più del suo avversario il suo avversario è stato eletto Presidente e Hillary Clinton si è ritirata in buon ordine e nessuno ha mai messo in discussione il fatto che Trump avendo preso mi ricordo più 3-4 milioni di voti meno di Hillary Clinton fosse il Presidente perché le regole della democrazia americana stabiliscono che il Presidente non viene eletto direttamente dal popolo ma attraverso un meccanismo di grandi elettori che passano per la maggioranza nei singoli Stati che ha prodotto questo risultato ora il Professor Cassese diceva però una cosa secondo me questa è decisiva dice poneva un problema che va ampliato poneva il problema che non si può cambiare sette volte la legge elettorale in pochi anni in vent'anni l'abbiamo cambiata sette volte e diventa una cosa veramente non è più una legge elettorale diventa una una variabile impazzita allora io non so se il Professor è d'accordo con me credo di sì la questione è che quello di cui abbiamo bisogno io sono convinto di questo non è una nuova legge elettorale ma è una riforma costituzionale vera che modifichi il funzionamento della nostra democrazia parlamentare che non funziona più io sono convinto personalmente che sarebbe necessario l'ho citata prima e quindi ispirarsi in qualche modo la democrazia americana che è la più avanzata che io conosca e la distinzione fra elezione del potere esecutivo e elezione del potere parlamentare secondo me è decisiva io credo che solo un'elezione diretta del Presidente della Repubblica del Consiglio o comunque del Governo e da un'altra parte un Parlamento proporzionale che può non avere nessuna maggioranza è l'unica garanzia di vera distinzione fra i poteri che oggi non esiste più perché il potere legislativo è un orpello faccio rispondere a Cassese ma aggiungo un tassello ma se non si fa questo continueremo a continueremo a se vogliamo la stabilità conservando la democrazia dobbiamo fare una cosa di questo genere cambiare le regi di Torrenza aggiungo un tassello perché in tutto questo i Cinque Stelle hanno portato a casa un grande risultato al loro punto di vista so che lei non è tanto favorevole a quello che è accaduto ma hanno tagliato il numero dei parlamentari grande festeggiamento champagne in piazza Montecitorio eccolo lì sono quelli dopodiché però nel patto di governo c'era scritto poi dobbiamo sistemare molte altre cose perché così effettivamente anche loro dicono non basta non si mettono a posto perché ha ragione poi il nostro Sanzonetti l'architettura costituzionale è una cosa abbastanza seria se questo governo va in crisi che succede perché è passata succede al prossimo giro se tutte le altre clausole che il PD ha voluto non arrivano dove si va a finire? intanto le altre clausole che sono state avanzate non riguardano ancora la legge elettorale riguardano altri aspetti riguardano per esempio la partecipazione il rapporto tra i rappresentanti regionali e i rappresentanti nazionali nel Parlamento per l'elezione del Presidente della Repubblica il problema sollevato da Sanzonetti è un problema che noi stiamo discutendo in Italia da 30 anni sostanzialmente inutilmente e non c'è dubbio che negli ordinamenti moderni una duplicità di investitura popolare quindi sia il Presidente sia il Parlamento investiti dalla legittimazione popolare sia un fatto positivo in qualche caso è stato anche un fatto negativo per esempio nel caso di quella Repubblica di Weimar di cui festeggiamo il centenario quest'anno perché la Costituzione di Weimar fu nel 1910 che il voto del popolo ci metta a riparo da alcune avventure non ci mette a riparo da alcune avventure perché si possono creare delle contraddizioni per esempio se noi avessimo un Presidente della Repubblica eletto dal popolo con gli stessi poteri di oggi verrebbe fuori un Presidente della Repubblica molto squilibrato perché rappresenta tutto il popolo può parlare a nome del popolo italiano e tuttavia ha dei poteri molto limitati ed è quello che è successo negli Stati Uniti perché negli Stati Uniti inizialmente il Presidente della Repubblica contava molto poco e solo nell'arco di questi 200 anni che poco a poco ha acquisito mi fermi un attimo sul Presidente della Repubblica perché in tutto questo è stato molto esplicito il tema della Presidenza della Repubblica Matteo Renzi ne ha fatto un punto qualificante di questa azione di governo dobbiamo resistere sentiamolo un momento il treno della legislatura arriva al 2023 non è nella disponibilità di nessuno né del Presidente del Consiglio che peraltro non è un parlamentare né di leader politici peraltro non parlamentari mettere in discussione che questa legislatura abbia il dovere istituzionale di garantire una maggioranza realmente antisovranista realmente pro-europeista all'elezione del prossimo Presidente della Repubblica Bisogna dare atto a Renzi come spesso accade la sua chiarezza l'ha detta questa cosa tanti la pensano lui l'ha detta però non è pericoloso dirla così non può sembrare agli occhi dei cittadini un patto di potere per portare a casa un risultato che poi in qualche modo protegga una parte Renzi malamente sostiene qualcosa che è implicito nella Costituzione la Costituzione non dice che il Presidente della Repubblica dura quanto il Parlamento avrebbe potuto farlo scadono insieme cinque anni cinque anni invece la Costituzione dice cinque anni sette anni perché questo tutti gli ordinamenti moderni prevedono scadenze diverse proprio per cercare di bilanciare potrei dire il passato col presente e il presente col passato cioè le maggioranze di oggi con le maggioranze di ieri e in modo da mettere sabbia nelle ruote diceva un grande economista cioè rallentare il processo del potere perché anche le maggioranze possono sbagliare e allora in questo modo si raggiunge un equilibrio c'è qualcuno che rappresenta il passato che limita il presente ma c'è nello stesso tempo il presente che condiziona il passato è una saggezza dei nostri ordinamenti e dobbiamo rispettarlo io penso che l'abbia espresso malamente questo concetto Renzi ma in sostanza credo che volesse dire questo allora tutte le volte che parlo con Cassese mi viene in mente che la Costituzione contiene già tutto quindi noi ogni tanto dovremmo pensare prima di rileggerla e poi di riscriverla invece sono tutti molto presi dalla riscrizione e tutti molto molto presi dallo studio della Costituzione perché c'è già tutto tra le no lui racconta sempre cioè in filigrana tutti i problemi sono già risolti in quella Costituzione devo andare in pubblicità? a me l'ho lanciata in una discussione meravigliosa pubblicità torniamo subito con voi mammo che c'è l'iano mammo che c'è l'iano allora eccoci qua siamo con Sabino Cassese Piero Sanzonetti ho una domanda da farle si parla di due cose ultimamente è stata lanciata un'idea molto condivisa su dare il voto anche ai sedicenni del nostro paese ne ha parlato letto ma poi insomma sarà molto condivisa e dall'altra parte Grillo ha fatto una delle sue provocazioni ha detto bisogna togliere il voto agli anziani perché ormai tutta la politica è appiattita sull'interesse degli anziani e dunque bisogna non farli più votare lei ha cominciato a votare a 21 anni credo all'epoca vero? ecco cosa ne pensa di entrambe le cose? ma guardi tutti si preoccupano di limitazioni epistocratiche della democrazia cioè di limitazioni nel senso di attribuire il voto sulla base della capacità della competenza e secondo me dovrebbe essere questo il criterio non quello dell'età sia da un lato sia dall'altro io penso io penso io penso che se uno arriva a 16 anni ci si può chiedere e perché non a 14? in fondo è un problema che è stato posto un grande studioso della democrazia dice ha raccontato che una volta parlava con suo figlio molto piccolo e diceva papà se ci dessero il voto anche a noi noi saremmo sicuramente meno imbrigliati da interessi collettivi saremmo meno sensibili ai problemi della mafia e così via e quindi si potrebbe scendere ancora di più il problema fondamentale è di far partecipare tutti quelli che hanno la partecipazione al voto non è altro che un indizio a una partecipazione più ampia alla vita sociale quando si arriva a partecipare più ampiamente alla vita sociale dopodiché c'è un tema di fondo posto sostanziale sul fatto che la politica è sbilanciata a favore degli anziani perché nessuno ne sono di più nel nostro paese una battuta che non ho più tempo però fammi una battuta su questo beh perché il paese è anziano ma non lo so io non sono contrarissimo io ricordo la mia generazione io pure ho votato a 21 anni a 16 anni eravamo impegnatissimi sapevamo tutto di politica leggevamo tre giornali al giorno oggi molto meno così perché i giovani della politica interessa molto meno anche perché è stato spiegato a tutti con una schifezza quindi giustamente tranne che la ria che tira tranne che la ria che tira devo andare in pubblicità ma diamoglielo comunque grazie a Piero Alanzoletti grazie a Sabino Cassese vi ricordo il riformista in Eticola da oggi pubblicità all'Inaltigento mattina sono qui che vi aspetto come sempre mambo italiano grazie a Piero Alanzoletti grazie a Piero Alanzoletti grazie a Piero Alanzoletti